Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti, siamo ospiti della regione Lombardia, siamo nella Sara eh Solesin per affrontare eh quello che è il quelli sono i risultati di un importante progetto che ha visto protagonista proprio la regione Lombardia. Io sono Vincenzo Mulè, sono un giornalista, sono il direttore di Prisma, una rivista di eh divulgazione matematica. Oggi eh però non non parleremo di matematica anche se alla fine di questo incontro eh molto probabilmente avremo anche eh più chiaro quanto la chiarezza dei dei dati sia importante per eh l'arricchimento del territorio. Io vorrei introdurre l'argomento parlando del database eh topografico. Il database topografico è un un progetto appunto che mh appunta a valorizzare la base dati geografica e cartografica di riferimento per la pianificazione urbanistica eh comunale. Si è trattato di un progetto di formazione che ha visto i eh Formez affiancare la regione Lombardia in un processo che ha coinvolto i comuni locali e gli enti del del territorio. Per questo io vorrei invitare il eh dottor Laffi, il direttore eh direttore Laffi a parlare dell'importanza di questo di questo progetto. Sì innanzitutto buongiorno a tutti. Grazie anche per la pazienza rispetto a questi eh imprevisti tecnici che credo che dopo un anno e mezzo di pandemia siamo tutti abituati a vivere quotidianamente. Vorrei subito portare i saluti di regione Lombardia eh a tutte le colori quali eh ci stanno ascoltando e eh a tutti i colori quali hanno partecipato a questo progetto aiutandoci a svilupparlo in questo eh percorso che è durato più di un anno e mezzo. In primis a a Formez al suo presidente Alberto Bonisoli con il quale avevamo convenuto e ideato eh questo percorso. eh a tutti i formatori che hanno partecipato naturalmente che sono stati fondamentali per la riuscita del progetto e ai partecipanti naturalmente visto il successo dell'iniziativa partecipanti che per la gran parte sono tecnici e e personale eh dell'amministrazione degli enti locali. È un progetto come dicevo prima che parte da lontano parte eh dalla realizzazione di una moderna cartografia digitale su tutto il territorio di regione Lombardia che si è completato l'anno passato grazie a questo investimento importante utilizzando fondi POR FSE 2014-2020 che hanno permesso di finanziare il completamento della realizzazione di questo prodotto su tutto il territorio regionale mancavano 262 comuni e quindi con questo con questa iniziativa e con questo progetto siamo riusciti a chiudere quest'operazione ma cosa più importante siamo riusciti a valle della realizzazione di questa moderna cartografia ad avviare un percorso formativo un percorso formativo che eh ci aiutasse a sviluppare maggiori competenze all'interno delle amministrazioni locali e degli enti locali che sono i soggetti principali che utilizzano questi dati queste informazioni e questi strumenti software dal nostro punto di vista questo è fondamentale perché eh questi strumenti non solo eh vengono utilizzati e servono moltissimo eh dalle pubbliche amministrazioni per analisi per eh indagini eh per condividere dati e di informazioni relative alla pianificazione territoriale ma sempre di più vengono utilizzati e sono indispensabili per sviluppare servizi servizi innovativi anche rivolti a cittadini imprese che grazie appunto a queste basi dati moderne sempre aggiornate e digitalizzate eh permettono di costruire questi eh percorsi. Un'ultima comunicazione di servizio vogliamo appunto eh eh segnalare che tutto quello che abbiamo detto prima dell'interruzione è registrato ed è disponibile sulla sulla piattaforma. Adesso riprendiamo scusi eh eh direttore questo mh è stato un percorso come dicevamo è stato un percorso un po' lungo, faticoso che ha visto eh la la regione Lombardia impegnata in una in una progettualità importante, si è trattato di un corso suddiviso in più di cinquanta unità didattiche. Eh quanto è importante per la pubblica amministrazione investire risorse nella produzione e nella condivisione della conoscenza di base? Guardi noi crediamo che sia fondamentale eh sia fondamentale investire naturalmente nella raccolta di questi dati e nel nel rendere accessibili questi dati nella condivisione. Questo perché la maggior parte di queste informazioni sono detenute da eh soggetti pubblici che spesso e volentieri però faticano a condividere queste informazioni. Quindi la prima cosa eh che eh diciamo era l'obiettivo iniziale anche di questo di questo progetto di realizzazione di questa moderna cartografia è produrre eh un prodotto, una cartografia che sia immediatamente disponibile a tutti, quindi soggetti eh pubblici e privati sulla base della quale eh sviluppare questi servizi. E dato che questa produzione ha un costo e anche la gestione e l'aggiornamento ha un costo rilevante è fondamentale che chi detiene e aggiorna questa informazione la renda disponibile quanto più possibile. Quindi questo è per l'aspetto che riguarda l'importanza dell'informazione territoriale. Per l'aspetto organizzativo del corso devo dire che all'epoca quando si pensò a come organizzare questa piattaforma, come sviluppare questo corso eh si pensò proprio di creare le condizioni affinché il maggior numero di tecnici possibile potesse partecipare. Poi naturalmente è intervenuta anche l'emergenza pandemica che se vogliamo in qualche modo eh ha costretto tutti a sviluppare servizi di questo tipo anche formativi e ha favorito probabilmente anche noi nell'erogare un servizio che era stato pensato proprio per cercare di facilitare un accesso anche da remoto a questo tipo eh di piattaforme di informazione. D'altro canto credo che i risultati parlino da soli visto l'adesione è importante i numeri dei partecipanti a questo corso. Ricordiamo i numeri. Eh i numeri sono più di 1600 persone che hanno partecipato di funzionari di tecnici, molte istituzioni ma soprattutto devo dire leggendo l'ebook grande soddisfazione anche dal eh dalla customer satisfaction perché poi andando a rilevare eh come hanno eh vissuto diciamo e che impressione hanno avuto queste persone che hanno partecipato al percorso sia degli aspetti organizzativi sia dell'offerta formativa devo dire che ne emerge un quadro veramente eh positivo e quindi ci rafforza nel dire che è stata un'iniziativa veramente importante e fondamentale. Lei ha sottolineato come questa attività cartografica sia di lunga di lunga data ehm andando un po' a studiare un po' di di documenti ho visto che già nel 1979 cominciavano i primi progetti. L'ultimo nato in questa in questa direzione è il Geoportale. Ce ne vuole parlare? Beh e soprattutto pensa che possa essere uno strumento efficace per la comunicazione sia alle comunità sia ai cittadini? Assolutamente. Rispondo alla seconda domanda in primis. Fin da quando è nato il Geoportale? Eh il Geoportale contiene tutte le informazioni a disposizione di regione Lombardia che vengono rese eh liberamente accessibili a privati a istituzioni a tecnici a professionisti e quando fu ideato eh parlo ormai di tanti anni fa eh fu ideato eh a seguito anche di una direttiva europea la direttiva Inspire intervenuta nel 2007 che eh guidava appunto un percorso dava l'avvia ad un percorso di condivisione del dato territoriale. Noi subito puntammo con decisione credendoci molto su questo eh obiettivo e il Geoportale concretizzò fu il primo eh risultato di questa eh azione. Parlano da solo anche qui i numeri perché da quando eh si pubblicò il Geoportale con questa disponibilità di informazioni da da allora è uno dei servizi più ehm utilizzati eh dall'esterno quindi se uno va a vedere i dati del delle consultazioni del eh portale web di regione Lombardia il Geoportale è uno di quei servizi che vengono apprezzati di più. È sensibile a tutti ma soprattutto a differenza di tante altre situazioni nel contesto nazionale rende disponibile tutto questo patrimonio informativo gratuitamente facilitando di molto quindi sia l'accessibilità che l'utilizzo di queste informazioni. Un aspetto importante che sottolineavano nel precedente intervento è quella della formazione dei eh del personale tecnico del nel nei comuni sul territorio. Non sappiamo che non sempre interloquire con realtà anche di piccola piccolo piccolo taglio è facile. Le volevo chiedere quanto e e e soprattutto il processo di digitale accompagnare il processo di digitalizzazione è un'impresa che la regione sta portando avanti. Il mh individuare il il software GIS come sistema per interloquire con il territorio ha influenzato in qualche modo le politiche della regione? Assolutamente. Allora rispetto al primo eh aspetto eh sì la regione è una regione complessa noi abbiamo mille cinquecentosedici comuni quasi il settanta per cento di questi hanno meno di cinque mila abitanti e di conseguenza anche delle strutture tecniche eh a volte non adeguate ad utilizzare eh strumenti innovativi di questo tipo e anche per questo che abbiamo naturalmente ideato questo percorso formativo ed altri. Devo dire che in questo ci ha aiutato molto anche Anci cioè la rappresentanza dei comuni perché eh proprio per il fatto che molte di queste realtà sono piccole hanno bisogno di essere supportate sia tecnicamente eh sia nello sviluppare eh iniziative formative di questo tipo. D'altro canto sui software GIS sappiamo che sono prodotti ormai esistenti da tanti anni eh sono prodotti che sono entrati nell'utilizzo comune anche nell'indagine eh di customer eh effettuata nell'ambito di questo eh di questo percorso emerge che però oramai la maggior parte delle amministrazioni si sono dotati di questi strumenti è uno strumento che permette davvero di ribaltare l'approccio eh alla gestione dell'informazione territoriale perché probabilmente non tutti i cittadini se ne rendono conto ma eh fino a pochi anni fa avere accesso all'informazione territoriale era molto difficile un professionista incaricato un consulente di un comune piuttosto che un cittadino che aveva bisogno di informazioni eh spesso non sapeva neanche dove andare a reperirle perché a seconda del tipo di informazione poteva essere in regione poteva essere in una provincia piuttosto che in un comune questi strumenti permettono davvero una condivisione capillare delle informazioni e un'accessibilità eh maggiore e quindi ci permettono di fare anche questo salto di qualità eh rispetto alla possibilità di fornire informazioni, dati e servizi. Ha poi una caratteristica non da poco che è open source quindi per il il comune, l'ente locale che eh che volesse eh entrare in questo circuito non ci sono non ci sono costi costi alcuni. A che punto è il livello di competenza della gestione del CISAP? Tornando sempre al tema della formazione sul territorio c'è abbastanza c'è abbastanza competenza perché leggendo anche i risultati nell'ebook vedevo che le i dati sono un nel senso che se da un lato eh la conoscenza del software è abbastanza alta dall'altro la conoscenza dell'uso del software è ancora c'è un po' ancora di lavoro da fare? Assolutamente come dicevo prima la nostra è una realtà complessa sicuramente i le città capoluoghi i grandi comuni eh sono attrezzati tanti altri comuni per storia diciamo anche amministrativa eh dell'ente eh hanno capito l'importanza di questi strumenti e eh ne fanno quotidianamente uso devo dire che molti comuni come diceva lei si appoggiano anche eh a dei supporti esterni a dei consulenti a degli operatori per questo noi fin diciamo da diversi anni a questa parte abbiamo sempre spinto anche per una maggiore formazione eh dei professionisti quindi tutti i nostri provvedimenti normativi eh sia nel campo della pianificazione territoriale sia nel campo del rischio della gestione del rischio idrogeologico e comunque di tutte quelle politiche che richiedono una approfondita conoscenza del territorio hanno sempre spinto verso una eh progressivo aumento delle competenze sia nel sistema delle istituzioni sia a livello dei professionisti che spesso e volentieri supportano le amministrazioni non dimentichiamo che noi in regione Lombardia abbiamo degli ordini importanti abbiamo l'ordine degli ingegneri 33 mila ingegneri abbiamo l'ordine degli architetti eh sono credo anche lì eh diverse migliaia i geologi tutti ordini eh professionali che lavorano a stretto contatto delle amministrazioni che nel corso degli anni hanno imparato ad utilizzare questi strumenti e ad avere accesso a tutte queste informazioni rese liberamente accessibili proprio per eh sviluppare anche una progettualità di maggiore qualità. La regione sta sempre eh spingendo sulla digitalizzazione digitalizzazione che poi rientra in un piano eh nazionale ed europeo eh più vasto. In questo campo partendo da appunto dalle prime e dai primi progetti del settantanove qual è il futuro della eh la cartografia per la eh regione Lombardia? Ma io credo che il futuro eh sia da una parte segnato da queste iniziative portate davanti dalla pubblica amministrazione eh dall'altro dobbiamo sempre avere un occhio molto attento a quello che succede in ambito privato commerciale perché comunque eh rispetto soprattutto all'informazione territoriale noi vediamo che in questi anni c'è stato uno sviluppo eh velocissimo incredibile dei servizi quando noi siamo partiti noi siamo stati la prima regione nel contesto nazionale e una delle prime regioni europee eh alla fine anni ottanta mettere a disposizione di tutti liberamente delle ortofoto digitali del territorio quindi chiunque accedeva al nostro sito eh di regione Lombardia del sistema informativo territoriale poteva vedere foto eh immagini aeree del territorio mosaicate sembrava una cosa innovativa pochi anni dopo Google ha fatto la stessa cosa e ciascuno di noi oggi non può vivere senza eh un'applicazione o un servizio offerto eh da Google Maps quindi ecco io credo che nei prossimi anni assisteremo un'ulteriore accelerazione eh e quindi dovremo sapere come pubblica amministrazione sfruttare tutte queste opportunità quindi ci saranno nuovi strumenti per poter comunicare con il territorio per poter dialogare tra regione e tempi locali nuovi strumenti informatici digitali sicuramente tra regione e territorio inteso come sistema delle istituzioni ma ancora di più io credo per poter dialogare direttamente con i cittadini e le imprese e mettere a disposizione eh queste informazioni e questi servizi eh del sistema eh regionale. Se dovesse individuare un punto per migliorare questo aspetto, l'aspetto comunicativo, l'aspetto del trasferimento dei dati anche a livello legislativo pensa a qualcosa? Ma io penso che la cosa fondamentale adesso sia il capitale umano eh perché tante cose noi le stiamo facendo eh ne abbiamo parlato fino ad ora lavoriamo molto sugli aspetti normativi, sulle tecnologie ma davvero dobbiamo fare un salto di qualità all'interno delle pubbliche amministrazioni nell'investire sul capitale umano, sui giovani, su delle professionalità, su persone che eh diano per scontato che il mondo è digitale. Eh io non mi ritengo tale perché ho una certa età eh però eh seguo questo percorso da tanti anni e ho visto davvero il cambio di eh mentalità e di cultura che c'è stato in questi anni rispetto eh a questi strumenti, a questi servizi e quindi ritengo che davvero noi come pubblica amministrazione ci dobbiamo impegnare ancora di più nell'investire sul capitale umano e su delle persone formate. Io la ringrazio, ringrazio Roberto Laffi, direttore generale al territorio e protezione civile della regione Lombardia e mi offre, parlando del capitale umano, mi ha offerto un assist per poter eh salutare Alberto Bonisoli che ci segue in collegamento da eh da Roma al quale appunto chiedo un eh quanto è stato eh difficile tradurre il il pensiero di regione Lombardia in e trasformarlo in una in un corso come quello che si è appena concluso. Buongiorno dottor Moulet, buongiorno buongiorno a dottor Laffi, saluto a tutti i partecipanti a questo momento importante perché il il seminario di chiusura di fatto del del progetto, il progetto chiude dopo domani quindi è il momento di fare alcune alcune valutazioni eh complessive e mi permetto in in apertura un ringraziamento a tutti quanti hanno lavorato in questo progetto, la la tutta la nostra squadra Formez, al dottor Luciani che che ha molto con grande saggezza ha gestito questo progetto che non dimentichiamo ci ha attraversato fasi non semplici della della vita del nostro paese quindi eh è stato pensato pre pandemia gestito all'interno della pandemia adesso se Dio vuole alla sua conclusione in un momento finale della della cosa. Eh risposta alla domanda dottor Moulet è legata appunto agli effetti eh da un certo punto di vista di accelerazione che la pandemia ci ha ci ha portato a a dover affrontare eh all'inizio torto collo e poi pian piano capendo neanche quelle che potevano essere le opportunità. Eh qui in fondo si tratta di di ragionare su quello che è un passaggio da un da un paradigma di quella che era la formazione tradizionale no? Una sala, sedie, persone sedute, qualcuno che parla, ad un qualcosa che potremmo chiamare per semplicità sviluppo delle competenze eh dove ci sono dei professionisti, ci sono dei funzionari, ci sono delle persone che lavorano, che vengono accompagnate eh da degli esperti e oggi avremo la possibilità durante la trolla rotonda di di parlare appunto con chi è stato coinvolto eh in questo progetto per sviluppare pian piano con gradualità andando a cercare quelle che sono eh le informazioni e le modalità ad esempio prima si parlava dell'utilizzo del software che più mi sono necessarie più hanno a che fare con la mia quotidianità in poche parole eh ricercare dei dei modi per poter migliorare la propria prestazione in modo da poter vedere un risultato immediato perché la pandemia da un certo punto di vista ironicamente se vogliamo eh accelerato questo questo processo perché tutto quanto sto dicendo ovviamente è stato gestito eh su piattaforme digitali quindi utilizzando gli strumenti che una volta venivano chiamati della formazione a distanza ma che oggi hanno sempre più un impatto sulla nostra quotidianità e il fatto che vi possa parlare da Roma oggi in fondo è un esempio se vogliamo di di questo. Questa è stata la la sfida più importante quindi quella di calare in eh modalità eh anche pillole formative anche eh interazioni tra eh chi doveva assistere e chi necessitava l'assistenza eh in in forme che che fossero coerenti con le possibilità tecnologiche su cui ci sarebbe un capitolo a parte ma probabilmente sarà oggetto di un altro progetto e e quelle che invece sono le le possibilità e i tempi e le la flessibilità anche di orario delle delle persone che ne hanno bisogno. Bene. Dal punto di vista pratico eh il l'aver dovuto pensare un corso esclusivamente a distanza vi ha mh sfavorito o vi ha o eravate già pronti all'evenienza? No il la tendenza ad andare a allora no non ci ha sfavorito eravamo già pronti ma quella che è cambiata se vogliamo è la portata dell'iniziativa. Se lei mi avesse fatto questa domanda tre anni fa l'Evra e 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 ha fatto un ragionamento di probabilmente di efficienza. Attraverso un webinar cose che ormai penso che siamo tutti abituati a seguire in in quantità massive eh lei raggiunge una 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 platea un audience che eh è difficilmente eh raggiungibile ma anche solo raggruppabile in presenza. Io attraverso un seminario oggi mi sembra che abbiamo quasi eh trecento se non sbaglio partecipanti a questa iniziativa le si immagini di dover chiamare tutti in una sala eh e fare esattamente quello che stiamo facendo adesso però in presenza. Quindi questo era già un un aspetto se vogliamo eh acquisito. E eh come Formez noi siamo sono da anni che ci siamo dotati delle capacità tecnologiche e anche dell'ingegnerizzazione della conoscenza cioè le modalità di erogazione che sono le più adatte a questo tipo di eh di erogazione. Qui però stiamo parlando di una cosa un po' diversa cioè a questo si aggiunge quella che è l'affiancamento se vogliamo. Quella che è l'interruzione l'interazione eh capillare puntuale eh che idealmente arriva all'uno a uno quindi alla possibilità di vedere eh riconosciuti eh valorizzati ehm come dire risolti se vogliamo usare questo termine quelle che sono le mie specifiche personali eh esigenze formative. Eh questo grazie alla tecnologia è possibile e penso che per noi ma più in generale per per tutta la società italiana il l'essere stati costretti ad utilizzare la tecnologia come mai avevamo fatto fino ad oggi è stato un un acceleratore molto importante eh di un processo che era già in atto e che eh farà sì che il nostro modo di comunicare il nostro modo di apprendere non sarà mai come quello che era prima. Di Formez è un punto di vista privilegiato per quanto riguarda il la digitalizzazione della pubblica amministrazione dal dal suo punto di vista appunto qual è lo stato attuale e quanto eh appunto della digitalizzazione e quanto è stato fatto anche grazie alla la agli eventi degli ultimi degli ultimi due anni mi riferisco alla pandemia naturalmente. La situazione è ma vede l'Italia è un paese straordinario perché noi abbiamo una se vogliamo almeno perlomeno questa è la mia esperienza rispetto ad altri paesi abbiamo minore capacità di pianificare. I nostri piani non sempre si verificano a volte sono un po' come dire ottimisti ecco chiamiamola così. Quindi noi abbiamo dei piani sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione che oramai datano già da qualche anno. Quello che però ho sempre apprezzato del nostro paese è poi la capacità di che ci sia il piano che non ci sia il piano realizzare delle attività anche copiandosi quando si vedono delle attività che funzionano ed avere un tempo di ripartenza o di diffusione di certa innovazione è assolutamente straordinario rispetto ad altre ad altre realtà. Dal punto di vista della digitalizzazione io vedo una situazione diversa sul territorio ci sono regioni che sono decisamente più avanti di altre. Forme se vuole da questo punto di vista un osservatorio privilegiato perché noi lavoriamo su tutto il territorio nazionale in particolare sia con le amministrazioni centrali ma con anche gli enti locali. Quindi insomma abbiamo il polso di quella che può essere una differenza territoriale. Sia per ambiti. Ci sono degli ambiti che sono decisamente più avanzati e diciamo questa pandemia ha aiutato un ulteriore sviluppo. Faccio un esempio, lo speed, la carta di identità digitale, cioè tutti questi, non so, noi facendo concorsi richiediamo la casella di posta certificata e questo è già stato un salto importante perché ora parliamo veramente di milioni di persone nel nostro paese che hanno un livello di accesso alla pubblica amministrazione dal punto di vista digitale assolutamente contemporaneo, quindi verso lo stato dell'arte. È anche vero che ci sono delle opportunità di, chiamiamola, disseminazione all'interno del nostro territorio. Prima giustamente il dottor Laffi ricordava che in Lombardia con questo progetto noi abbiamo interessato 1516, se non mi sbaglio, comuni che a livello nazionale vuol dire un comune su sei. Quindi il fatto di avere già un'esperienza che ha avuto questo tipo di impatto numericamente penso che possa essere estremamente utile anche alle altre amministrazioni, sia a livello regionale che più in profondità, a livello provinciale, comunale o di comunità montana, quello che sarà per ispirarsi all'esperienza che è stata svolta. E come ultimo tenete conto che negli ultimi mesi, anche grazie al lancio e a tutta l'attività preparatoria del PNRR, ci sono state delle importanti evoluzioni della digitalizzazione. Pensate solo alla vera e propria rivoluzione che stiamo portando avanti nel campo dei concorsi pubblici, dove oramai la carta è stata eliminata, si riescono a fare grazie alla digitalizzazione in contemporanea, in più posti, in più località sul territorio nazionale, evitando la classica migrazione su Roma che veniva fatta in passato per i concorsi nazionali, i risultati si possono avere nel giro di qualche ora, tutto nel rispetto di una procedura Covid, se noi fossimo rimasti alla cata e alle modalità che c'erano prima, tutto quanto vi sto dicendo sarebbe assolutamente realistico. Sentendola parlare mi è venuta in mente un'altra curiosità, questa dal punto di vista personale. Stiamo parlando di un progetto che ha visto coinvolto la regione Lombardia coinvolgendo enti locali, comuni anche i piccoli. C'è una differenza nel preparare un progetto formativo per realtà minori piuttosto che invece per comuni grandi, penso banalmente Roma, Milano, Torino. C'è qualche cosa che differenzia i due processi? Certamente. Vede, non è solo un problema di formazione, è anche un problema, se vogliamo chiamarlo, di assistenza to curva. Alla fine noi quello che stiamo confrontando, quando guardiamo un comune di una certa dimensione, lo so, comune di Milano, capoluogo di provincia, Brescia, Cremona, sono realtà consolidate e quando vediamo un piccolo comune, noi stiamo confrontando quella che è un'organizzazione strutturata da una microrganizzazione, che si parli di pubblica amministrazione, che si parli di aziende commerciali, alla fine non cambia di molto. La differenza è la struttura e la forza autogenetica che ha l'organizzazione, che nel caso in cui si superi una certa dimensione è ricettiva, ad esempio, di un supporto, di un accompagnamento, di un, ad esempio, di un intervento di formazione, di una consulenza. Quando si scende di dimensioni, questo aspetto rimane, ma c'è una sfumatura in più che si aggiunge ed è quello dell'assistenza vera e propria. In alcuni casi è molto più realistico quello di fornire direttamente o un semilavorato o il prodotto finito di cui ha bisogno l'amministrazione pubblica, proprio perché è il capitale umano presente all'interno del comune, magari di altissima qualità, ma non è sufficiente come numerosità per recepire ed assorbire quello che può essere un contenuto che viene trasferito. Ecco perché anche noi come Formez abbiamo sempre questo doppio livello di intervento. Abbiamo un intervento dove di fatto su realtà strutturate, facciamo dei progetti di miglioramento della capacità amministrativa dove si lavora insieme e altri dove o direttamente o indirettamente attraverso ad esempio dei centri locali o gli stessi uffici regionali preposti, diamo un'assistenza, diamo appunto un semiprodotto al comune in in modo che lo posso utilizzare. Questo le anticipo sarà una delle sfide principali nella realizzazione del PNRR. Il PNRR prevede un coinvolgimento pesante degli enti locali, i soldi è vero sono al centro ma la ricaduta deve essere una ricaduta visibile sul territorio e sappiamo già fin da adesso che alcune realtà sono relativamente pronte, ovviamente gli va spiegato, ma dal punto di vista della capacità e della competenza sono, chiamiamo, abbastanza pronte per lavorare in tempi rapidissimi, altre avranno bisogno di un aiuto ulteriore per essere in grado di utilizzare questa occasione unica per il nostro Paese. Grazie, non so se rimane ancora in collegamento con noi, se possiamo approfittare della sua cortesia. Nel frattempo ringrazio, direttore lei rimane con noi? La salutiamo e la ringraziamo, la ringraziamo per il suo contributo e intanto invito ad accomodarsi, a raggiungermi Maurizio Federici e Fabio Consi, entrambi della direzione generale al territorio e la protezione civile della regione Lombardia. Con loro affronteremo il tema della costruzione del piano di governo del territorio in ambiente GIS, focalizzando l'attenzione proprio sulla questione, sul ruolo che ha avuto la regione. È evidente a una lettura più attenta che un progetto che vede coinvolto il progetto, il disegno del territorio con tutto ciò che ne consegue non può non essere inserito in un contesto nazionale europeo, che vede le nazioni impegnate nel raggiungimento degli obiettivi di natura ambientale, l'ormai famoso Green New Deal. E proprio su questo argomento chiedo l'aiuto del dottor Federici, al quale chiedo come questo progetto si inserisce in un contesto europeo, nazionale prima e europeo dopo. Sì, grazie. Saluto anch'io tutti. La regione Lombardia si pone come sempre all'avanguardia a livello nazionale anche per le risposte a quelle che sono le esigenze dell'Europa e quindi anche in questo caso alla risposta al Green New Deal. Però noi ci occupiamo di territorio e quindi è importante tener conto di quelle che sono le necessità oggi sul territorio perché la città contemporanea esprime dei bisogni diversi dal passato e quindi temi come lo sviluppo sostenibile, la difesa del suolo ma anche il consumo di suolo citato nel Green New Deal ma anche altri aspetti come la resilienza, come la mobilità integrata, sono tutti nuovi argomenti della città contemporanea e allora di fronte a questi elementi che devono essere tenuti conti a livello territoriale bisogna comprendere se l'approccio passato, il metodo passato poteva funzionare. Oggi la crisi economica e la crisi pandemica hanno dimostrato che invece questo approccio segmentato come c'era nel passato non funziona più. Non funziona più ed è necessario affrontare questi argomenti in modo diverso, un modo che tutti hanno detto integrato, sistemico, perché se non si considerano tutti questi argomenti in modo sistemico purtroppo si affrontano parzialmente e non si risolvono i problemi. e eh lo stesso ministro Giannini proprio a marzo ha citato la pianificazione urbanistica come uno degli strumenti necessari per andare a rispondere alle esigenze ai bisogni della popolazione, ai nuovi bisogni della popolazione e quindi è in tal senso che noi eh dobbiamo agire. Oggi non si può più parlare di sviluppo economico senza parlare di aspetti sociali, lo abbiamo visto no? Con la crisi pandemica è inutile parlare di finanziamenti alle imprese se non si pensa a tutti quegli aspetti sociali, così come non si può parlare di sviluppo economico senza parlare di eh una nuova trasformazione dell'economia in economia circolare. Tutti elementi che coincidono eh tutti insieme e allora cosa fa Regione Lombardia? Regione Lombardia ha sviluppato proprio quello che per noi è l'eccellenza, il punto di riferimento per tutti che è il piano territoriale regionale. Questo piano territoriale regionale, nuovo piano, la revisione del piano territoriale regionale che adesso è in fase di approvazione, tiene conto di tutti questi tematici e quindi anche per esempio del consumo di suolo, peraltro noi già dal 2018 abbiamo avviato la misurazione del consumo di suolo e perché dico avviato la misurazione del consumo di suolo? Tutti parlano del consumo di suolo però ricordiamo un aspetto importante citato nel Green Deal e citato anche nel PNRR eh di fronte al fatto che non abbiamo una legge nazionale sul consumo di suolo noi abbiamo agito ma come sempre storicamente la Regione fa eh anticipa spesso le leggi di livello nazionale quindi di fronte al fatto che non abbiamo una legge nazionale sul consumo di suolo ci siamo eh abbiamo anticipato eh facendo che cosa? Cioè cercando di rispondere all'esigenza che la comunità europea ci ha indicato. Quali sono le esigenze della comunità europea? Sono quelle di misurare il consumo di suolo dal punto di vista dell'impermeabilizzazione e questo già lo svolge Ispra a livello nazionale ed in modo anche eh se vogliamo ehm completo su tutto il territorio e uniforme su tutto il territorio. Questo le volevo chiedere ci sono differenze nelle modalità di misurazione? No nel senso che anche noi teniamo conto di questo aspetto ma una cosa di impermeabilizzazione cioè ogni costruzione che si edifica sul territorio che impermeabilizza il territorio viene misurata attraverso una lettura satellitare ma dice anche un'altra cosa l'Europa. L'Europa ci dice che dobbiamo anche cercare di ridurre quelle che sono le possibili future trasformazioni. Nello stesso tempo l'Unione eh l'ONU dice che il consumo di suolo deve essere proporzionato all'aumento della popolazione cioè non si aumenta la popolazione è inevitabile che bisogna consumare suolo. Allora tornando al dato Ispra è chiaro che noi siamo sempre stati etichettati come la regione che consuma più suolo in Italia ma il consumo di suolo c'è quando ci sono le persone c'è quando ci sono le aziende ed è chiaro che se in Lombardia abbiamo 10 milioni di persone inevitabilmente siamo la regione che consuma più suolo. Per noi l'importante è quell'indicatore sempre a livello nazionale ed europeo sia sempre proporzionato al numero degli abitanti per esempio al PIL al numero degli addetti. Se guardiamo le graduatorie rispetto a questi indicatori ci accorgiamo che la regione Lombardia non è più la prima anzi è tra le ultime nella graduatoria. Ma questo non è sufficiente come dicevo prima perché è necessario cercare di limitare le trasformazioni e allora per fare questo appunto come dicevo prima nel 2018 abbiamo avviato il piano territoriale regionale che ha detto che cosa? Ha detto vediamo qual è la potenzialità delle attuali previsioni di sviluppo presenti nei piani di governo territorio e questo l'abbiamo potuto fare perché da anni abbiamo avviato questa politica di informatizzazione dei piani di governo territorio ma nello stesso tempo vediamo quali sono le previsioni di aumento della popolazione. Incrociando questi due dati ci siamo accorti che abbiamo un surplus di previsioni e di confondi e quindi conseguentemente abbiamo iniziato a inserire dei target di riduzione delle previsioni quindi tutti i comuni dal 2018 sanno anzi addirittura dal 2014 non si possono fare più previsioni rispetto a quelle già previste nel 2014 ma siccome sono in eccesso queste previsioni abbiamo anche detto che ci sono degli step 2020 il primo 2025 il prossimo dove entro il quale bisogna ridurre e quindi questo risponde come dicevo prima all'esigenza dell'Unione Europea che dice appunto bisogna ridurre il consumo di suolo ma non solo attraverso la misurazione dell'impermeabilizzazione che comunque è sempre crescente perché inevitabilmente misurando anche il box che uno costruisce all'interno del proprio giardino quella è un'impermeabilizzazione ed è inevitabile che questo cresca ma nello stesso tempo quello che abbiamo fatto noi abbiamo potuto fare per questo avvio da anni dell'informatizzazione anche del territorio abbiamo anche potuto conoscere quali erano le previsioni dei comuni e quindi dire che rispetto all'andamento futuro potenziale della popolazione che si prevede in aumento si deve ridurre perché le proposte ma questo anche perché siamo in un un'altra stagione non devi più prevedere delle edificazioni sul territorio in attesa di una domanda certa non è più così la domanda non è più certa e conseguentemente bisogna essere individuate le ragioni per regolarli la domanda non è più certa c'è un motivo questo cambiamento la crisi economica innanzitutto gli operatori economici intervengono quando sanno di poter vendere le abitazioni e se c'è un surplus di previsioni è chiaro che non è detto che quelle abitazioni che verranno costruite verranno acquistate dai cittadini se parliamo di residenze non solo ma come dicevo prima essendoci già un surplus di previsioni un surplus di case già costruite non ancora abitate però di fronte a questi elementi di carattere macroeconomico è chiaro che gli imprenditori diciamo orientano le loro operazioni immobiliari in modo diverso grazie grazie dottor federici una domanda simile ma la vorrei porre a lei dottor dottor consi a fianco al grigno deal nel pnr un ruolo fondamentale è quello della digitalizzazione sappiamo che la digitalizzazione la pubblica amministrazione è il uno dei cardini attraverso quale passa il piano di rilancio dell'italia se prima chiedeva al dottor federici come si inserisce questo questo progetto nella green new deal questo progetto invece nella nello sviluppo della digitalizzazione che ruolo a sì per la nostra digitalizzazione nostro paese certo allora intanto buongiorno a tutti la domanda mi dà la possibilità di inquadrare quindi questo progetto di cui parliamo del database topografico e della formazione che è collegata a questo progetto nel nel più ampio piano strategico che ha regione lombardia sulla semplificazione della trasformazione digitale è un piano che in realtà nel 2018 2019 come nuova edizione ma in realtà affonda le radici da precedenti esperienze in questo ambito dal punto di vista della pianificazione della programmazione per la digitalizzazione del diciamo non solo della regione come strumenti con cui governa ma anche che rende disponibile al territorio questo è un po il il tema centrale non informatizzare digitalizzare per rendere più efficace solo la nostra azione di regione ma di farlo come dire in maniera a volte sussidiaria a volte invece di accompagnamento di cui si è parlato prima i piccoli comuni e le realtà che diciamo sono magari un pochino più in sofferenza per la per la dimensione e per una serie di ragioni non solo le economiche ma anche organizzative e strutturali quindi tutto questo piano di sviluppo e strategico della semplificazione trasformazione digitale di regione lombardia va proprio in questo in questa direzione di dare agli enti la capacità di interagire con regione per patrimonializzare il informazioni territoriali di questo stiamo parlando questo in questo ambito questo progetto quindi va in quella direzione si inserisce bene in questo piano strategico poi piano strategico di regione quindi di semplificazione e trasformazione digitale che originariamente era all'interno di un'agenda digitale lombarda che poi è stata ripresa a livello anche nazionale chiaramente si aggancia a quello che sono il diciamo i dettami più recenti della transizione digitale di pieno transizione digitale quindi pnr e quant'altro tutto questo quindi ha uno sviluppo diciamo armonico a più livelli quindi abbiamo detto quello che è questo progetto serve per come dire accompagnare e aiutare le amministrazioni pubbliche e locali ma in realtà aiuta noi a mantenere aggiornato e questo è un altro punto una parola chiave riuscire a rendere questo patrimonio informativo sempre vivo perché tutto quello che è vivo e aggiornato a come dire qualità e come dire affidabilità dal punto di vista della altra parola chiave mi sembra sia quella della condivisione e della condivisione esatto perché ecco questo e riprendo la parola anche lì del dottor federici e dell'architetto federici la circolarità la escolarità può essere spesa in tante e come dire in tanti ambiti la circolarità delle informazioni è proprio quello che rende il patrimonio informativo vivo e aggiornato quindi se c'è uno scambio dati fra noi e il la i comuni le province e le comunità montane tutti gli inti che operano sul territorio riusciamo a mantenere questo patrimonio informativo vivo e sempre aggiornato questo è uno sforzo che non può fare regione da solo perché in realtà noi non operiamo direttamente sul territorio noi riceviamo queste informazioni quindi mantenere e tornando al merito del progetto un database topografico aggiornato in base alle informazioni che arrivano dal territorio quindi lo strumento principe dal punto di vista della pianificazione il pgt il piano di governo del territorio se queste informazioni arrivano a noi in maniera come dire completa il più possibile e qui ci sono diciamo delle regole delle indicazioni ben chiare agli enti locali per fare questo lavoro in realtà il lavoro che stiamo facendo di scambio dati quindi circolarità di queste informazioni e condivisione in realtà non è a uso della regione regione lo fa perché come dire è dimensionalmente strutturalmente in grado di riuscire a come dire gestire questa massa di informazioni molto ampia la cartografia di base ma in realtà questo aggiornamento del database topografico è a uso in primis del degli enti locali che lo usano proprio per poi continuare a fare varianti di piano di governo del territorio quant'altro quindi il rendere come dire accessibile l'informazione tramite geoportale e avere sotto una banca dati il più possibile affidabile di qualità è un vantaggio reciproco diciamo che è quell'approccio che si chiama un po win win cioè tu comune provincia ente del territorio che può essere anche in forma associata perché se vogliamo parlare di sussediarietà e di riuscire a raggiungere tutti i piccoli comuni che chiaramente sono a volte in difficoltà a volte le gestioni associate anche lì aiutano in questo senso perché riescono come dire fare forza e massa critica per riuscire come dire a seguire e a dare a regione e quindi popolare la banca dati in maniera aggiornata il più possibile quindi la circolarità delle informazioni è fondamentale questo è proprio uno come dire delle parole chiave uno dei principi alla base del della nostra come dire strategia di digitalizzazione per circolare le informazioni devono essere condivise come dicevamo dicevamo prima ma anche chiare per tutti quindi prendo spunto dal da quello che lei che lei ha appena detto per tornare al al tema principale ossia la la costruzione del piano del governo del territorio in ambiente gis il software gis in questo processo di condivisione dei dati che abbiamo visto il ruolo che gioca ma che arricchimento porta rispetto al passato l'arricchimento fondamentalmente è di cambiare marcia cioè bisogna fare un po' un salto in avanti molti uffici tecnici dei comuni degli enti che lavorano sul territorio lavorano adesso non sempre di meno con la carta però in realtà quei documenti che arrivano in consiglio comunale poi per l'approvazione definitiva tanto per intenderci del piano di governo del territorio sono tanti elaborati cartacei e e questo diciamo è lo è un canale sul quale continuano a rimanere certe amministrazioni comunali poi arrivando poi successivamente al canale invece del digitale perché noi chiediamo che queste informazioni del piano di governo del territorio siano poi tornate come dire trasmesse quindi scambiate condivise con regione in maniera digitale quindi è questo doppio canale che significa che per noi significa un allungamento dei tempi a volte e soprattutto per gli enti che sul territorio lavorano questo doppio canale aumenta i tempi a volte crea delle difformità crea delle delle situazioni diciamo di difformità fra quello che è il piano delle regole piano dei servizi tutto quello che è diciamo il piano di governo del territorio e quello che viene trasmesso a regione quindi il cambio diciamo il salto in avanti è riuscire un giorno e su questo stiamo lavorando adesso poi magari faccio un piccolo inciso riguardo a questo e cambiare un attimo marcia e usare il software gis per prelevare l'informazione più aggiornata possibile lato comune per poter redigere proprio piano di governo del territorio a questo punto quando si ha questa come dire porzione del del territorio di propria competenza su cui lavorare per il piano di governo del territorio non abbandonare il gis ma usare degli strumenti digitali e noi stiamo adesso sperimentando un nuovo approccio si chiama geo pgt che vuole andare oltre diciamo alla trasmissione tramite i tradizionali canali mandare i livelli informativi gli strati informativi adesso non voglio entrare nel tecnico ma diciamo che sono chiaramente livelli informativi digitalizzati se si riuscisse un giorno e vogliamo perseguire estremamente questa 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 questo obiettivo arrivare all'utilizzo di strumenti che permettono di redarre il pct in formato digitale nativo questo sarebbe finalmente come dire il passaggio diciamo di di svolta perché a questo punto l'informazione non deve essere poi dopo recuperata controllata mandata regione verificata da noi ma è già in un ambiente che è propedeutico è già diciamo adatto come regole come controlli per poter essere trasmesso e popolare il database topografico in modo da aggiornarlo tenerlo vivo questo è un passaggio diciamo un cambio di mentalità un cambio di processo che a volte è molto difficile ci rendiamo conto in effetti qualche comune già sta andando in quella direzione ma posso immaginare che quelli piccoli fanno fatica allora dobbiamo fare un accompagnamento e se parliamo di accompagnamento parliamo allora di questi strumenti strumenti sia diciamo formativi che è il corso GIS che abbiamo erogato al ai tutti i comuni per quelli che hanno aderito che sono comunque stati un certo numero e quindi diciamo che il ritorno è come diceva il direttore dottor lafi è come dire di pregio perché comunque aver avuto una partecipazione importante vuol dire che ci si crede ecco c'è la possibilità di vedere un futuro vedere una prospettiva però non dobbiamo interrompere questo processo quindi dobbiamo continuare insistere in tutti i canali tutti i modi possibili noi regine della regione promuoveremo questi strumenti però il passaggio finale a cui vogliamo arrivare è il pgt digitale questo è l'obiettivo finale è chiaro che è un percorso che ci vuole tempo quindi non possiamo strappare mandare in avanti e cercare come dire arrivare primi ma rimanere con tutti gli altri indietro dobbiamo fare un accompagnamento dice questo perché ha avuto già una prima risposta su questi temi da parte degli antilocali allora la prima risposta di chi sperimenta è sicuramente positiva è chiaro che avere il ritorno di tutti è un'altra cosa e quindi bisogna avere come dire la pazienza la fatica di cui si parlava non è una fatica semplicemente legata al volere a tutti i costi insistere ma perché comunque ci crediamo e ci crede ci crede con noi diciamo a tutti i livelli non solo la regione ma è un qualcosa che va in un contesto più ampio a livello nazionale e non dimentichiamoci anche quello europeo quando il direttore la fichi diceva direttiva inspire di europa direttiva inspire fondamentalmente da come dire le chiare indicazioni su come la informazione geografica deve essere accessibile quindi fruibile quindi tre cose fondamentalmente la consultazione la ricerca del dato lo scarico del dato che abbiamo detto deve essere di un certo tipo di un certo standard un certo formato la direttiva inspire costringe noi regione a uniformarci a questi standard facendo questo parliamo la stessa lingua arriveremo un giorno ad avere come dire un dato digitale che non deve essere lavorato rilavorato controllato ma sarà già nativamente quello giusto perché le regole saranno come dire nativamente implementate e attuate quindi verificate e condivise come dicevamo come dicevamo prima grazie al dottor federici al dottor consi adesso facciamo un diamo il via alla tavola rotonda facciamo il cambio no mi dicono di no sì sì i sindaci sì sì non è mi sono scusate sì sì dopo il punto di vista della regione lombardia facciamo il sentiamo il punto di vista dei sindaci dei alcuni dei comuni coinvolti di questo progetto nel frattempo nonostante le grazie grazie dottor federici grazie consigli nonostante appunto l'emergenza covid sembri passata noi siamo ancora attenti al determinate modalità di protezione del dei nostri dei nostri ospiti eh intanto approfitto di questo momento per ehm presentarli abbiamo Marco Passoni che è il sindaco del comune di eh Olginate e il Luca Veggiani che è il il sindaco del comune di Karate Karate Brianza benvenuti e grazie grazie di essere di essere qui ad entrambi faccio la stessa domanda così rompiamo un attimo il ghiaccio eh come è stato recepito questo progetto della regione lombardia in ambito territoriale sappiamo che abbiamo di fronte due comuni da due con due profili diversi uno un po' più piccolo uno un po' un po' più eh popolato eh chi vuole chi vuole iniziare per prima? Buongiorno a tutti e grazie per l'invito io sono sindaco del comune di Olginate e 7000 abitanti 7000 abitanti sì sì il corso secondo me è stata una grande occasione per la formazione dei nostri dipendenti soprattutto dell'ufficio tecnico e questa formazione ci ha permesso di eh partecipare alla sperimentazione eh dell'applicazione del GEOPGT che si parlava adesso sì eh questa sperimentazione secondo me ha funzionato benissimo e eh se mi metto la parte del sindaco e eh la parte di uditore di diciamo così degli stakeholder che vengono in comune eh ha accorciato di di tantissimo i tempi e credo che sia eh la cosa eh fondamentale in questo periodo lo dicevano anche prima gli altri relatori adesso abbiamo delle richieste che cambiano eh velocemente e quindi eh questo a questa nuova o questo nuovo modo di eh di lavorare ci permette di rispondere più velocemente che secondo me è la cosa. Quali sono le nuove richieste? Nuove richieste rispetto a eh una crisi economica che in alcuni casi eh sta uscendo dal tunnel e quindi ci sono delle aziende che hanno bisogno di risposte e di tempi certi con queste nuove applicazioni secondo me eh non abbiamo ancora i tempi certi ma per la mia esperienza dove abbiamo approvato in in consiglio comunale il PGT a maggio e è stato pubblicato sul Burra ad agosto è eh secondo me è un grandissimo successo perché i tempi sono veramente ristretti e diamo la possibilità in questo caso. È stato un salto di qualità rispetto al passato? Sì sicuramente eh io la faccio facile poi eh rispetto alla formazione rispetto eh al modo di lavorare dei tecnici eh c'è ancora un po' di fatica ma c'è anche tanta voglia di imparare. Fortunatamente siamo accompagnati da tecnici esterni molto più esperti che riescono a farci fare questo salto di qualità. Bene buongiorno io sono Luca invece eh sono sindaco di un di Caratebrianza un comune di quasi eh diciotto mila abitanti. Io devo ringraziare davvero tanto per per questo invito perché Regione di Lombardia ha dato la prova anche anche quest'oggi eh dell'importanza del della voce del del territorio raccogliendo appunto le le nostre testimonianze. Bene come come hanno eh recepito questo questo corso direi eh favorevolmente è stato è stato molto importante eh devo dire che dalle dalla nostra come amministratori locali tante volte non non focalizziamo l'attenzione non diamo la giusta importanza alla formazione e all'utilizzo di questi nuovi applicativi. Invece come diceva eh poc'anzi il mio collega sono sono fondamentali. Sono fondamentali perché con una macchina comunale composta da tecnici eh preparati riusciamo davvero eh ad avere un ad avere delle performance diverse e come diceva giustamente dare anche delle delle risposte molto più veloci. In questo momento eh come diceva è richiesto dal dal mercato. Sappiamo benissimo che il il mercato privato, l'industria, le attività commerciali presenti sui nostri territori vanno a una velocità decisamente diversa. Noi dobbiamo cercare eh di di recuperare terreno. Di sicuro tempo fa il questo questo percorso era era più lungo. Adesso grazie a tutte queste nuove tecnologie e soprattutto grazie a questi corsi di formazione di di Formez eh stiamo migliorando e quindi eh puntiamo ad andare avanti in questo modo. Parlando della digitalizzazione si parla sempre spesso della formazione del del dipendente della pubblica amministrazione. A che punto è nei piccoli comuni la 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 formazione della dei dei dirigenti come così come dei tecnici e nel dettaglio quanto il software GIS era conosciuto e utilizzato? Non era conosciuto e non è nemmeno tantissimo utilizzato adesso. Eh diciamo che usiamo degli applicativi, faccio un esempio per eh rilasciare il cdu dove c'è una sovrapposizione tra PGT, cattasto e carte dei vincoli eh il corso è servito per iniziare eh non siamo messi malissimo io fortunatamente ho avuto un turnover e quindi i dipendenti sono relativamente giovani e diventa tutto più semplice eh anche come da sviluppare. Eh siamo all'inizio però eh i risultati si sono visti e dire che c'è entusiasmo eh diciamo che è un po' eccessivo però si eh c'è iniziato questo percorso che come ho detto prima eh sta già dando i risultati e poi utilizzandolo si capisce che si possono eh estrarre dei dati sui dati ci si può ragionare sono sono dati sia numerici che eh sia qualitativi e che ti aiutano a fare delle scelte quindi è un percorso eh come diceva giustamente il collega forse poi noi ci occupiamo d'altro però se ci mettiamo la testa ci aiutano anche noi amministratori poi a fare delle scelte diverse. Sì il mio caso ovviamente eh è leggermente diverso rispetto al collega in quanto date le dimensioni del del comune rappresento un comune medio eh di sicuro ho più forza a a livello di di organico o anche la fortuna invece che eh stiamo vivendo in un periodo di ricambio generazionale dove tutti noi eh comuni abbiamo avuto eh davvero nuovi ingressi abbiamo avuto tanto tanto personale tanti pensionamenti e quindi probabilmente la propensione dei dei giovani subentranti è anche quella di di essere più più avvezzi alla alla tecnologia. Io ho avuto anche la fortuna che già dei dei dipendenti utilizzavano questi 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 applicativi e quindi grazie al alla loro collaborazione eh di sicuro il l'indirizzo proprio dell'ufficio tecnico è cambiato però ripeto dato che ci sono stati tanti subentri i corsi di oggi sono fondamentali per eh per erudire far imparare anche al ai nuovi dipendenti eh questi l'utilizzo di questi applicativi. Lo scorso eh gennaio adesso leggo alcuni dati per poi voglio eh vorrei da voi un 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 commento furono eh più di settemila e duecento i comuni che eh aderirono alla e richiesse richiesero l'accesso al fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Si tratta di un numero altissimo quasi il novantadue per cento dei comuni. La gran parte di questi comuni era sotto eh la famosa soglia dei cinquemila abitanti. In base a questi dati e qui chiedo proprio all'amministratore non pensate che il la narrazione del comune sia la narrazione sui media generali sia un po' distorta rispetto a quella alla realtà? Secondo me sì. Eh io sono uno che eh sto cercando di raccontare una storia diversa nel senso che eh dal mio punto di vista la la macchina amministrativa in questo momento sta lavorando bene eh e è facile raccontare invece una narrazione sempre negativa. Invece eh ci sono persone preparate, persone che continuano a eh diciamo a formarsi al di là del di questo corso di cui stiamo parlando oggi ma anche in in altri diversi ambiti eh perché ormai è richiesta eh una grandissima professionalità. Eh ci sono ancora dei secondo me dei degli sforzi da fare però non è nemmeno eh diciamo che siamo al punto di partenza. Siamo a un buon livello. La richiesta di fondi è perché vogliamo sempre migliorare. Ho l'impressione che si passi o da un catastrofismo esagerato o a un a un a un quadro idilliaco che magari non non risponde alla alla realtà che ci sia poco equilibrio nell'affrontare il 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 tema della narrazione del comune, del piccolo comune che non sia il comune come il la metropoli. Siete d'accordo? Ma posso dire che stiamo vivendo in un'epoca differente. Cioè lo lo stereotipo che viene raccontato dal giornale siccome si riferisce a un a una figura mitologica che oggi fortunatamente non non c'è più. Io devo dire che il comune di karate ha investito tanto nel 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 personale nella nella riorganizzazione per cercare anche di tornare a pieno organico però posso dire di avere un una fortuna immensa in un comune come karate fate conto che può contare di su circa un centinaio di di dipendenti e io non posso di certo lamentarmi perché sicuramente rispetto al passato il il lavoro è stato efficientato la tecnologia ha ha migliorato le cose però devo dire che si parte sempre dal dalla volontà del del dipendente e quando comunque hai a che fare con con persone predisposte a imparare delle cose nuove o adeguarsi ai nuovi strumenti tecnologici rende di sicuro la vita più facile a noi amministratori. Per concludere dall'inizio che stiamo parlando di quanto è stato bello di quanto è stato positivo questo e quanto è stato utile questo corso in che cosa lo migliorereste dal vostro punto di vista dal punto di vista del comune? Io rispetto a questo corso non migliorerei nulla chiederei a la regione Lombardia magari visto che secondo me il corso ha funzionato bene uno sforzo un aiuto in più rispetto a ad accompagnare magari non è il caso del mio comune o del comune del tuo comune nel senso che siamo io 7 mila tu 18 mila abitanti ma i comuni più piccoli era accompagnare veramente gli uffici tecnici nella costruzione del PGT perché come dicevano giustamente prima i funzionari è un percorso complesso e non tutti i comuni sono strutturati per seguire questo percorso quindi se regione Lombardia dovesse inventarsi un percorso di accompagnamento ai comuni dall'inizio e con molto banalmente con un elenco di tutte le cose da fare di tutti diciamo i pareri da chiedere agli enti secondo me questo ci aiuterebbe molto e arriveremo molto più velocemente a quello che si diceva prima alla fine del percorso per poi digitalizzarlo e per poi pubblicarlo e per renderlo veramente efficace credo che questo sia un aiuto che può aiutare veramente i comuni che come dicevamo prima quelli sotto i 5 mila abitanti in regione Lombardia sono veramente tanti e dal punto di vista della pianta organica anche sottodimensionati. Beh è difficile dire cosa migliorerei in un corso che ha ottenuto dalle statistiche che ho letto praticamente i voti più più alti all'unanimità a livello di concretezza a livello di informazione e di completezza quindi è difficile dire cosa cosa migliorare nel nella parte tecnica io posso dire soltanto che bisognerebbe migliorare la comunicazione tra enti quindi cercare il modo di estendere oltre oltre comuni il questi questi corsi di formazione anche agli enti intermedi perché io lo dico perché in questo momento sono in fase di variante generale tante volte ci troviamo in difficoltà magari l'ufficio tecnico è all'avanguardia e utilizza questi questi strumenti mentre altri enti in intermedi li utilizzano bene e quindi rendono difficile la comunicazione. Un'altra cosa e lo dico non solo come sindaco ma anche come presidente del dipartimento territorio di Anci che sicuramente miglioreremo anche la collaborazione perché adesso penso che l'input e la cosa fondamentale sia aumentare la platea dei comuni e dei tecnici che partecipano a questi corsi e quindi vi do anche in questa sede la mia disponibilità con la disponibilità di Anci nel collaborare per rendere più capillare questa informazione. Grazie, grazie a Marco Passoni e Luca Veggian o Veggiani? Veggian, Sindaci di Olginate e di Karate e Brianza. Vi invito appunto i partecipanti alla tavola rotonda, adesso sì alla tavola rotonda a sostituire i precedenti ospiti e di di avvicinarsi in modo che possiamo continuare la nostra discussione. Ricordo a chi ci sta seguendo sia attraverso la piattaforma YouTube sia attraverso banalmente internet che è possibile partecipare attivamente a questa tavola rotonda mandandoci delle domande alle quali cercheremo di rispondere in diretta. Nel frattempo vedo che gli ospiti si sono accomodati o si stanno si stanno accomodando. Io do il benvenuto alla Anna Gagliardi, responsabile, mi correggo, responsabile settore edilizia urbanistica e commercio del comune di Pedrengo. Ho detto giusto? Bene. Poi alla mia sinistra Alberto Benedetti e Gianmarco Paris che ci segue da remoto. Poi Fabrizio Veronesi e inoltre abbiamo anche Maurizio Cabras che è il dipartimento territorio urbanistica, lavori pubblici edilizia Anci Lombardia. Fabrizio Veronesi e del comune della comunità montana di Valle Trompia. Io inizierei, c'è un aspetto che forse abbiamo non sottovalutato, abbiamo affrontato finora ancora in maniera marginale. Per questo chiedo l'aiuto d'Alberto Benedetti che è quello della formazione. È opinione comune che la digitalizzazione sia lo strumento fondamentale per far ricominciare a correre il nostro paese. È altrettanto opinione comune che il nostro paese sconta dei ritardi cronici nella digitalizzazione. Nelle classifiche siamo sempre in pannellino di coda. C'è da dire anche però che nell'ultimo anno tra i paesi del G7 solo la Francia ha fatto meglio di noi. la formazione, la formazione nella pubblica amministrazione, come come si come si pensa, come si si attua partendo dall'esempio di di questa, del progetto che abbiamo che abbiamo sostenuto qui in regione Lombardia. Sì, buongiorno a tutti, grazie, un saluto esteso a chi ci segue anche da remoto e al collega Paris che ho intravisto nello schermo che con me ha condiviso e sta condividendo il percorso formativo. Penso che la sua domanda è calzante e questo corso sia la risposta esemplare di questa voglia e anche io vorrei essere anche un attimo positivo di questa energia che si vuole sprigionare in termini di digitalizzazione per recuperare anche i gap che precedentemente illustrava. Il corso ha dato modo e sta concludendo in maniera positiva, quindi il report e questo ebook che è stato stato prodotto e verrà diffuso potrà dar modo di apprendere effettivamente i dati, hanno dato l'opportunità di incrementare le competenze del processo di digitalizzazione all'interno delle pubbliche amministrazione, degli enti intermedi, quindi questo corso è stato affrontato anche da funzionari del comunità montane, dei parchi e dei varie province e altri enti e soprattutto dei vari comuni. Quindi la volontà è stata quella di cercare con questo corso iniziale che è opportuno ricordare che è un corso di base. Lei ha la fortuna che vede vive i grandi numeri nella quotidianità perché si fa un gran parlare di formazione delle tecnici della PIA e poi invece lei ogni giorno li forma. Sì, sostanzialmente questo corso ha dato modo di avere un feedback diretto perché veramente la cosa positiva è quello di avere quotidianamente delle richieste di verifica, di maggior approfondimento di come si affrontavano le unità didattiche, i compiti mediante gli strumenti di comunicazione, delle live chat piuttosto che altri strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di regione Lombardia e quello che vi posso dire è che comunque c'era la voglia di apprendere, di se possiamo dire colmare questa differenza nella digitalizzazione quindi le energie ci sono, gli strumenti ci sono e abbiamo visto che funzionano, le amministrazioni sono ben disposte nel investire e nel continuare in questa direzione, penso che ci sono tutti gli ingredienti per raggiungere i cosiddetti goal della comunità europea, questo indicatore molto importante di performance e di raggiungimento anche di obiettivi europei. Non so se il dottor Paris che è in collegamento vuole aggiungere qualcosa su questo tema? Buongiorno, spero che mi sentiate, sono Gianmarco Paris, saluto e ringrazio tutti, beh no, come al solito Benedetti ha coperto brillantemente abbondantemente tutto, l'unica cosa che aggiungo è che alla fine nella nostra società, nel nostro mondo, nelle nostre vite quotidiane la geointelligence ha un ruolo sempre crescente e sempre di maggiore importanza, quindi digitalizzazione e digitalizzazione specificatamente nel campo dell'informazione geografica come questo corso che è stata un'esperienza bellissima, secondo me ha anche dimostrato, la strada imboccata è quella giusta e dobbiamo riconoscere che veramente Regione Lombardia guarda lontano e sa guardare lontano e sì, formare è molto divertente, molto piacevole e questa esperienza così basta, è così, con una platea così grande di una tipologia di studenti che si differenzia largamente rispetto, non lo so, io adesso parlo della mia esperienza personale, che principalmente a livello universitario, in realtà è stata fortemente formativa, sicuramente per me, non so anche se Alberto condivide il pensiero, ma insomma è stato faticoso ma veramente interessante, niente, basta. Continuiamo con il giro e faccio una domanda al dottor Cabras, Anci Lombardia ha da subito appoggiato questo progetto, per quale motivo? Intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito, l'ho appoggiato all'interno di una pratica che Anci Lombardia ha con la regione Lombardia, in particolare nel nostro settore, nel mio settore, con la direzione territoriale, in base agli obiettivi dell'ente regionale, che poi diventano anche gli obiettivi dell'ente locale, definire come dire una programmazione della collaborazione, in modo che iniziative importanti come queste non siano occasionali, ma appartengono come dire a una dimensione più strutturata. E quello che diceva appunto il direttore generale Laffi, con Anci ci confrontiamo per far cadere gli obiettivi regionali che poi sono gli obiettivi dei comuni. Diceva bene anche l'architetto Federici quando nell'inquadrare il tema, il dottor Conzi, quando nell'inquadrare il tema della gestione dei dati e immediatamente la ricaduta delle pratiche territoriali, quindi la pianificazione urbanistica, quanto queste attività che viene dagli anni debba però poi fare i conti con gli enti locali e quindi la collaborazione con l'associazione dei comuni, che non è semplicemente, e concludo nella sua domanda, che non è semplicemente un rimando di informazioni, una specie di ufficio che rilancia nei comuni ciò che fa la regione, ma è anche e soprattutto la possibilità all'interno di questa programmazione di restituire alla regione le difficoltà, i punti critici, proprio perché l'obiettivo appunto non è solo promuovere la formazione, ma è capire in questo processo di innovazione dove sono le luci e le ombre. Mi permetta, se non prendo troppo tempo, quattro punti secchi su questo, che non è un problema di essere positivi o negativi, ma di fare un po' una lettura di quello che sta succedendo. Il primo è stato detto, la Lombardia ha molte ricchezze locomotive di questo paese, ma anche una struttura particolare, si porta dietro 1500 comuni, molti di questi sono sotto, non i 5000, ma sotto i 2000 abitanti, quindi con difficoltà, come dire, strutturali, oggettive e nel tempo la regione Lombardia ha saputo infatti provare a innovare con forme di aggregazione, con forme di associazionismo del comuno. Quindi questo è un punto importante, non è un problema di capire da un punto di vista politico il tema dei campanili, ma di trovare le soluzioni più efficaci, senza cadere nelle gabbie magari normative, di come i comuni possano davvero lavorare insieme. Allora poi è un problema di competenze, di competenze territoriali. Se un comune fa una cosa, può farsi copiare dal comune a fianco e viceversa, magari concentrarsi su un altro tema dal quale può essere copiato. Quindi questo è quello che è il primo punto importante. Noi dobbiamo confrontare... Copiato con valenza positiva? Assolutamente sì, copiare una delle cose più belle se viene fatto con lo spirito di migliorare tutti. Se viene fatto con lo spirito competitivo di chi arriva prima, allora copiarle è brutto. Ma siccome qua siamo di fronte a una sfida che investe il Paese, quindi che investe noi tutti, lo dicevamo prima, sui fondi del PNRR, o si costruisce un'alleanza effettiva, o se no si corrono dei rischi. Il secondo passaggio, è vero che siamo in una fase nuova, ma noi veniamo da un momento di austerity drammatico. Cioè noi avevamo, come dire, la regola era quella di ridurre le potenzialità tecniche ed difficili. Noi da questo veniamo. E questa cosa che un po' si sta invertendo, però è stata negli anni lunga e non è facile dall'oggi a domani rimettere in campo, come dire, una diversa modalità. La terzo passaggio che volevo mettere in campo è un altro, che è quello, la continua evoluzione normativa, la continuo cambio delle regole. Necessario? Necessario. Ma spesso sul tema della semplificazione i comuni si sono trovati di fronte, come dire, a un dramma, perché quotidianamente dovevano rivedere e rimettere in discussione quali erano le regole del gioco. Se il mare è calmo, se tu mi cambi le regole del gioco, magari non sono brillantissimo e reagisco. Ma se il mare è tempesta, continuare a cambiare la rotta, beh, non è facile, sapendo che la ciurma non è più quella di una volta, ma è molto limitata. E' provata. E' provata. E' provata. Quindi questo è un ulteriore dato. In tutto questo, davvero concludo, quindi, il tentativo che Anci fa, non a un livello occasionale, ma a un livello strutturale con la regione Lombardia, e viva Dio che questa cosa succede, come diceva anche prima il Presidente del mio Dipartimento, è condividere obiettivi di lunga duata. Provare a tradurre la, come dire, l'elemento, come dire, particolare, eccezionale, in un evento normale. Per far questo è molto faticoso, ma è questa la strada. Grazie, grazie dottor Marras. Marras è sempre un cognome sardo, è molto bello, ma io faccio... Era un vecchio conoscente che ho confuso. Mi scusi, dottor Cabras. Allora, invece, a Fabrizio Veronesi, che ringrazio di essere qui, di essere venuto. Chiedo non solo un'opinione su questa iniziativa promossa dalla regione Lombardia, ma anche come iniziative di questo tipo impattano su realtà come le comunità montane. Sì, ringrazio anch'io Regione Lombardia e Formez per avere scelto, diciamo, il nostro caso come testimonianza di questo percorso virtuoso, di questa esperienza, di questa formazione. In effetti le aggregazioni che erano evocate, poc'anzi, dei piccoli comuni e dei comuni, nel nostro caso di montagna, sono l'unica possibilità per riuscire ad affrontare, diciamo, evoluzioni normative, ma anche miglioramenti tecnologici come quello della digitalizzazione. Noi abbiamo cominciato nel 2008 a creare un geoportale del nostro territorio che poi si affianca evidentemente a quello di Regione Lombardia, si integra, diventa sussidiario. Noi ovviamente peschiamo i dati da il provvidenziale portale di Regione Lombardia, ma per esempio mettiamo anche livelli informativi del territorio come i sentieri, insomma una serie di cose che possono più interessare a livello locale. Mi interessa segnalare anche agli amministratori che alla fine questo percorso che sicuramente richiede molte energie, l'innovazione si sa ha dei costi, può avere tranquillamente anche dei rientri economici. Noi facciamo una gestione associata del reticolo idrico minore, per esempio, quindi attraverso il database intersechiamo le informazioni sempre presenti nei geoportali di Regione Lombardia, per esempio delle linee tecnologiche, si evidenziano interferenze che sono previste dalla normativa assoggettate a canoni e si introitano canoni che i comuni che non hanno altre possibilità tecnologiche di questo genere per poter fare questo tipo di controlli normalmente trascurerebbero. Io è da anni che rendo ai miei comuni circa 600 mila euro ogni anno di canoni che prima non erano intercettati, quindi con questi soldi si fanno interventi importanti per la tutela del territorio, ma una parte può anche essere dedicata a potenziare gli aspetti della tecnologia e gli aspetti della cura cartografica e della digitalizzazione. Per cui è fondamentale una volta ottenuti gli strumenti condividere il più possibile la capacità di utilizzarli. Attraverso esperienze di questo tipo io sono molto contento e ho partecipato con molti dei miei dipendenti a questa iniziativa che mi sembra la prima realizzata da Regione Lombardia perché diversamente i miei tecnici avevano dovuto formarsi diciamo in maniera autonoma e sicuramente il confronto con i funzionari comunali e con i professionisti diventa molto più facilitato se la conoscenza è diffusa, così come la possibilità di fare un utilizzo di questi strumenti. Il caso che ho fatto è emblematico, cioè va bene la conoscenza ma possiamo anche utilizzarla in modo da farla rendere. Grazie, grazie. Chiudiamo il giro con la dottoressa Cagliardi alla quale anche a lei chiedo un parere, una considerazione di questo progetto, però in aggiunta vorrei capire come il miglioramento delle competenze digitali ha migliorato o potrà migliorare il lavoro negli uffici tecnici dei comuni coinvolti. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. diciamo che io sono un po' anche un po' l'esperto perché correva l'anno 2000 quando per il Dipartimento di Scienze del Territorio feci il primo corso GIS finanziato dal fondo FSE. Ecco da quel momento da neolaureata credo che mi abbia cambiato completamente la visione il GIS perché per chi svolge pianificazione strategica più che territoriale proprio la chiamo strategica perché ha una visione a 360 gradi che non è più solo legata all'ufficio tecnico. Ecco questo è un cambio epocale di cultura perché il GIS non deve occupare semplicemente l'ufficio tecnico come una cosa riservata ai tecnici perché invece il GIS ha una visione trasversale a 360 gradi su tutti quelli che sono i settori del comune. Ecco la cosa importante proprio ho sentito prima parlare gli amministratori. È fondamentale per un amministratore sapere che questo strumento lo può aiutare e facilitare nel suo ruolo nel campo dei lavori pubblici, nel campo dell'ambiente, nel campo dei servizi demografici, nel campo delle risorse economiche. Oggi più che mai dobbiamo ottimizzare le risorse perché fare un bilancio, fare una variazione di bilancio sappiamo tutti quanto sia complicato. Allora a quel punto, nei momenti cui io un GIS e incrocio una serie di informazioni, come di incanto non ho più bisogno di fare delle scelte senza sapere dove mi porteranno perché la base oggettiva dei dati fa sì che io prenda una decisione in automatico. In un quartiere deciderò di mettere un parco per bambini o un campo di bocce, dipende dal tipo di popolazione. Se io incrocio i dati della popolazione e capisco che lì c'è una popolazione di anziani, certo non metterò un parco per bambini, metterò un parco magari prevedendo un campo di bocce. Ecco queste sono delle piccole scelte che con le poche risorse che si hanno a disposizione appunto nei piccoli comuni come abbiamo detto fino adesso diventa fondamentale ogni candidato politico, siamo prossimi alle elezioni. Se solo avesse queste informazioni non avrebbe da inventare nulla, non avrebbe da inventare magari delle opere faraoniche che non servono a nessuno. Prima il collega parlava di strategia tra comuni, allora perché non mettere insieme le risorse e capire cosa il territorio ha veramente bisogno, di quali servizi. Allora se serve una piscina possiamo farla in diversi comuni perché così evitiamo di buttare via i soldi tutti. Magari servirà un altro servizio in un altro comune. Allora sì la rete diventa efficienza, allora sì che la visione strategica del territorio ha una visione completamente diversa, è un cambio epocale di cultura e Regione Lombardia avendo sposato questo progetto sta veramente prendendo una nuova visione che è completamente innovativa e ringrazio Regione Lombardia perché ripeto dal 2000 io mi occupo di questi temi e vedere che Regione Lombardia finalmente ha appoggiato questo progetto e l'ha proposto ai tecnici. È qualcosa di veramente meraviglioso perché sempre più abbiamo bisogno nella pubblica amministrazione di city manager, questa figura che ha veramente una visione strategica, che è di accompagnamento anche agli amministratori per dargli la giusta scelta, per fargli fare la giusta scelta politica. Preparazione tecnica, competenze, dati oggettivi aperti a chiunque, possono veramente fare del comune una forma differente. Parliamo di marketing territoriale? Allora quando parlavamo prima di imprese, perché un'impresa decide di insediarsi sul mio territorio? Perché in quel territorio troverà tutte quelle cose importanti che un'azienda ha bisogno per partire e con velocità. Allora ho le strade, però se io tutte queste informazioni non sono racchiuse in un unico strumento, capisce che diventa fondamentale il tempo oggi. Abbiamo parlato tanto in questa mattinata di quanto sia importante avere le informazioni velocemente. Ecco se io devo aprire un'azienda, devo avere dei tempi certi e allora devo sapere quanto tempo mi ci vorrà, che cosa mi offre quel territorio rispetto ad un altro territorio, perché scelgo quello e non quell'altro. Ecco allora noi comuni dobbiamo diventare veramente quel passo in più, non quell'istituzione stantia, ma veramente quel generatore di innovazione. Capisco che nei piccoli comuni è complicato, però è importante formare, ma anche a livello di bacino, dei tecnici veramente preparati in materia. Quindi sarebbe bello avere anche una seconda fase di questo corso, dove si passerà veramente ad una formazione a 360 gradi, dove si uniscono allora i dati dei tributi, dell'anagrafe, di tutti i dati importanti, perché poi questo fa anche equità fiscale, perché pagare tutti, pagare il giusto, fa sì che dal controllo dei dati e incrociando i dati emergono immediatamente anche tutte quelle condizioni, come diceva il collega, poco limpide o che magari i tecnici di una volta non hanno neanche il tempo di poter andare a cercare con il lanternino. Allora queste tecnologie sono degli strumenti che veramente sono vincenti per chi tutti i giorni lavora sul campo. Grazie, grazie all'intervento della dottoressa. È un intervento importante perché ci aiuta a sottolineare il carattere globale di questo percorso formativo. Un carattere che appunto forse è stato un po' sottostimato. Mi dicono che rispondendo all'invito precedente è arrivata una domanda da parte dei partecipanti. dovrebbe essere una domanda per il per il dottor Benedetti. Esiste un gap importante tra formazione universitaria e le necessità di gestione dei nuovi strumenti dei professionisti che sono chiamati a redigere il piano di governo del territorio. Perché questo distacco tra mondo e università? Sì. Bella domanda. È una bella domanda e ringrazio per chi ha posto questo quesito. Penso che non sarò in grado e non saremo in grado di rispondere qua. È un interrogativo sicuramente molto più ampio. Il distacco tra il mondo del lavoro e quello dell'università è un tema che non possiamo risolvere qui chiaramente. È sicuramente annoso. Quando insegnavo in università mi sono sempre posto questa domanda e ho cercato nei miei limiti di poter dare delle risposte agli allora studenti discenti. Ma ancora oggi nello studio quando arrivano a fare tirocinio mi dicono e mi chiedono ma in università queste cose non ce le insegnano. Non vorrei rispondere con una domanda retorica. Penso che le istituzioni, in primis le università, dovrebbero cercare di avere un feedback maggiore con i luoghi del lavoro e quei luoghi deputati, poi pubblica amministrazione, studi professionali, cioè il mondo del lavoro a 360 gradi, a stringere chiamiamole una maggiore alleanza e reciprocità di intenti. Al fine di, come accade in altri Stati europei, al fine di non riempire menti ma di formare persone. Penso che questo sia un obiettivo lungimirante che da docente, da libero professionista, da papà mi chiedo e ogni mattina quando mi alzo dico come posso contribuire. Anche perché la domanda tra la distanza dal mondo del lavoro o la realtà per gli studenti che ancora non si affaccia al mondo del lavoro e la formazione è una domanda che coinvolge tutto l'arco scolastico. Assolutamente sì. Io ho l'esperienza di mia figlia che è piccolo, appena riziato, quelle che si chiamavano le scuole media, così ci capiamo tutti. Anche lei mi chiede quando lavoro, ma riuscirò, ma queste cose mi serviranno. Ovviamente è una domanda ampio, ad ampio spettro. Penso che l'università ha un ottimo ruolo di aprire la mente, cioè di darci, come spesso trovo nelle, nei contributi del dottor Cabras, la cassetta degli attrezzi, mi piace molto questa metafora, per poi costruirci il futuro e costruirci il futuro lavorando e lavorando bene. Aggiungo, se riusciamo a introdurre in questo grande meccanismo qualche goccia d'olio di opportunità, di tirocini al lavoro, non che il Politecnico non ne faccio, l'università non ne faccio, però di maggior aderenza anche di qualche corso universitario, penso che riusciremmo a traguardare obiettivi molto importanti. Spero di aver risposto in parte a una domanda molto ampia. Sentiamo se è d'accordo il collega. Dottor Pari, sei d'accordo? Ha qualcosa da aggiungere? Presente. Beh, l'esperienza di Alberto e mia sono fortemente simili. Io trovo che la formazione universitaria abbia la caratteristica di sparare a grandissimo raggio. Se tutti gli anni noi ci troviamo a formare 400, 500 persone, mi limito al campo dell'informazione geografica, ci troviamo a formare questo numero di studenti che è piuttosto antio, però quello che facciamo è fornire in questi corsi a livello universitario principalmente una sorta di introduzione alla disciplina, l'utilizzo dei dati, l'utilizzo eventualmente anche dei software, comunque il software è secondario, quello che importa è il dato geografico del software. Quello che succede invece in un corso come quello che abbiamo fatto, e secondo me ci siamo anche abbastanza riusciti, è quello di rivolgersi a una platea di persone che fanno altro, che non devono star via semplicemente a sentire le basi, le cose di base, le cose importanti, come iniziare. hanno bisogno di attuare nella pratica determinate tipi di analisi e nel campo della pianificazione territoriale le procedure sono specifiche, le cose da fare sono chiaramente individuate, indicate e non sono semplici. Quello che ci terrei a dire è che le cose che abbiamo cercato di passare ai partecipanti al corso sono tutt'altro che cose di primo livello e cose semplici. Il corso è di base, ma il punto d'arrivo è stato fortemente pratico, perché l'idea è quella di metterli nelle condizioni di poter effettuare le operazioni loro stessi e quindi forse il gap è anche a questo livello che ad esempio il Politecnico di Milano spara, a raffica e non sempre in maniera completamente sincrona e sincronizzata a una grande platia di persone, le cose principali più di base, mentre poi nel mondo del lavoro c'è bisogno di agire. Adesso questa è un po' la mia intenzione. Ovviamente come ha detto Alberto, non siamo certamente in grado noi né qui né domani di poter risolvere un problema di questo tipo. Quello che è vero è che dobbiamo cercare di mettere più connessione tra la formazione a livello universitario e il mondo del lavoro, cosa che al momento è ancora un po' così debole. Hai preso appunti sui suggerimenti della dottoressa Cagliardi sulla seconda seconda tornata del del corso? Certamente noi seconda, terza, quarta, quinta, ennesima tornata siamo sempre pronti. Siamo dal... prego, prego. No, ho detto semplicemente che noi siamo assolutamente pronti per una seconda, una terza, una quarta, una quinta tornata è il nostro mestiere e lo facciamo sempre volentieri, quindi abbiamo preso appunti. Dottor Cabras a proposito di formazione chiedo che cosa può fare l'Anci per sostenere la formazione digitale? Nel caso specifico ritornare appunto dalle cose che stanno emergendo e capitalizzare i risultati ottenuti in questo corso e capire qual è il modo migliore affinché chi non ha partecipato possa essere investito nel risultato positivo di questo processo affinché ci sia una platea più larga di soggetti che sappiano poi far evolvere appunto il sistema territoriale delle informazioni ma anche dell'utilizzo dei software. Per cui il primo passaggio secondo noi è questo, risederci insieme, visto che alla fine di questo corso abbiamo ottenuto dei buoni risultati e lavorare su questi buoni risultati per diffonderli ai contesti territoriali ma non meccanicamente magari facendo qualche attuando qualche strategia affinché possa ricadere ed essere più funzionali. Il secondo passaggio su cui noi pensiamo che anche la Regione di Lombardia ovviamente sia lineata ma sul quale Anci sta lavorando da tempo, Anci Lombardia è il principio di sussiderietà orizzontale con gli ordini professionali. È vero che abbiamo ruoli diversi, abbiamo come dire la responsabilità non solo dell'attuazione della norma ma la responsabilità stesso del controllo della norma e il professionista invece supporta questo passaggio quindi non ha una responsabilità o non sempre una responsabilità diretta ma questo non vuol dire che questa differenza dei ruoli deve metterci in un livello di contrapposizione. Viceversa è necessaria sul principio della societarietà orizzontale una nuova alleanza con gli ordini professionali. Allora anche a partire da questo tema, anche a partire da questo tema, capire con gli ordini professionali come questa cosa può essere rilanciata ma non come adesso parliamo con gli ordini professionali ma attraverso gli ordini professionali riparliamo alle pubbliche amministrazioni per capire quali sono i livelli di efficacia affinché queste sfide che abbiamo in campo siano attuate. Grazie, grazie. Torniamo alle comunità montane e facciamo un passo indietro prima dell'inizio di questo di questo progetto. Qual era il grado di capacità digitale preesistente e quanto un software come il GIS era conosciuto presso presso le comunità montane? Allora, io devo dire forse nel Bresciano abbiamo avuto delle esperienze abbastanza fortunate perché sia noi che la Valle Sabbia per esempio da molti anni stiamo lavorando su questo tema e non siamo in questo senso forse rappresentativi della media, ecco diciamo così. Nonostante questo anche se al nostro interno i nostri funzionari o alcuni soggetti che si sono in maniera particolare specializzati sul trattamento del digitale siano presenti poi se c'è l'impatto diciamo con la struttura dei comuni e con la struttura dei professionisti. Come si diceva anche prima siamo in un periodo di evoluzione tale per cui la spinta verso il digitale arriva talmente da tante direzioni che è impossibile diciamo non adeguarvi. Noi abbiamo realizzato lo sportello per la presentazione delle pratiche digitali nel 19, no nel 17 c'era una perplessità del territorio ma chissà i tecnici sarà la ribellione e invece per fortuna tutte le nostre pratiche dell'edilizia circolano esclusivamente in digitale e abbiamo avuto un caso personalmente è venuto a trovarmi un anziano professionista che si lamentava del fatto che lui non aveva il tempo e la voglia di. Quindi ma in questo senso sicuramente un'altra risorsa molto grande è quella dei giovani. I giovani sono portati per questa materia però volevo riallacciarmi al lo spunto che è stato fatto nei confronti degli ordini professionali. Questa secondo me è un territorio molto interessante da coltivare e penso al tema dell'aggiornamento del database catastale, del database topografico perché la regione Lombardia lo sa sono state spese moltissime risorse, il percorso è stato ragionevolmente non brevissimo, noi abbiamo uno strumento eccezionale che rischia di diventare vecchio in pochissimo tempo. Allora l'agenzia delle entrate e il catasto sono riusciti a fare in modo che i professionisti esterni presentando le pratiche aggiornassero automaticamente la base catastale e dobbiamo riuscirci anche come regione Lombardia, cioè i professionisti presentano quotidianamente appunto tramite le pratiche digitali, nel mio caso non sono ancora obbligatori ovunque ma insomma ci arriveremo molto presto, disegni che rappresentano l'evoluzione del territorio attraverso strumenti digitali, quindi è un peccato duplicare questo lavoro che poi magari qualcun altro dovrà fare con dei costi che deve sopportare la pubblica amministrazione. E con tempi di periodi poi? So benissimo che ci sono dei protocolli molto complessi, so che c'è un tavolo che ci sta lavorando, ci dobbiamo arrivare perché è proprio una scelta logica. Nel momento in cui noi avremo l'aggiornamento continuo dei nostri dati territoriali attraverso il flusso di presentazione che il cittadino spontaneamente presenta nel momento in cui fa le istanze e avremo colmato un grosso cap. Grazie, grazie Fabrizio Veronesi. Volevo tornare invece un attimo dalla dottoressa Gagliardi, intanto perché appunto per riprendere parte degli spunti del suo intervento precedente. Lei ha detto che dal 2000 che ha cominciato a studiare il software GIS. Dal punto di vista della sua, lei copre un ruolo di responsabilità, come ha tentato, se ha tentato e se poi ci dirà se c'è riuscita di coinvolgere anche il suo ufficio tecnico per l'utilizzo? Allora, nella realtà dove oggi lavoro, il mio ufficio appunto si chiama edilizia privata urbanistica e SIT, sistema informativo territoriale. Questo perché l'importanza di questa ipotesi è sempre stata già nelle parole. Io quando sono arrivata nel comune nel 2016, proprio perché ci ho sempre creduto e ho negli anni cercato di apportare queste innovazioni negli elementi dove ho lavorato, il comune dove oggi appunto lavoro, credo che sia stato proprio l'occasione migliore. Nel nostro caso, per esempio, grazie ai miei collaboratori che hanno sposato completamente il progetto, veramente a tutto tondo, abbiamo georeferenziato tutti gli edifici. Quindi quando si parlava prima di pratiche edilizie, le nostre pratiche sono tutte digitali, quando arrivano allo vengono immediatamente geolocalizzate e viene dato un codice ecografico. L'amministrazione comunale ha fatto degli investimenti importanti, ha messo veramente tante risorse economiche per digitalizzare, per ampliare ovviamente la rete informatica, perché ovviamente poi deve essere supportata. Queste informazioni, adesso l'ultimo passo sarà quello di unire appunto le banche dati tributarie con quelle dei demografici, perché a quel punto per ogni edificio noi avremo la storia, le persone, chi c'è dentro, che cosa fa, cioè avremo tutte le informazioni relative, per cui nel nostro caso il GIS è già realtà, è già una realtà utile, che per noi diventa uno strumento fondamentale, perché quando interroghiamo le informazioni non perdiamo tempo a andare in archivio, a cercare informazioni e ci siamo resi conto di quanto sia uno strumento più che mai utile, per cui tutte le informazioni, l'altro giorno parlavamo di insegne pubblicitarie, quanto è importante poterle adesso georeferenziare, appunto proprio perché il mio collaboratore è fresco e gli ho detto adesso bisogna mettersi sotto immediatamente per non perdere le elasticità, ho detto georeferenziamo ogni impianto pubblicitario, mettiamo dentro le scadenze, a quel punto non avremo più bisogno di ricordarci di niente, perché ci sarà un remind che immediatamente ci avvisa quando scadrà, se è stato pagato, la tassa pubblicitaria, quindi tutte cose che ci toglieranno via tanto di quel lavoro che avremo poi la possibilità di fare altro, quindi se capiamo l'importanza per noi tecnici di uno strumento che ci alleggerirà il lavoro, beh abbiamo veramente fatto il bingo. Grazie. Iniziamo l'ultimo giro, torniamo al dottor Benedetti e al dottor Paris, partirei dal dottor Paris per una volta. Gli volevo chiedere come si sta preparando un ente come Formez a questa mole di lavoro che lo attende per quanto riguarda la formazione, lo studio della digitalizzazione e della pubblica amministrazione. Questa è una buona domanda alla quale io posso solo provare ad abbozzare una risposta, in quanto ovviamente l'ottimo gruppo di lavoro Formez sarà molto più in grado di me di dare una risposta di questo tipo. Ma secondo me c'è l'opportunità, probabilmente favorita anche indirettamente dall'evento pandemico che ci ha colpiti, c'è l'opportunità di arrivare a fondo e in dettaglio all'amministrazione pubblica. Ora io ovviamente mi riferisco sempre solo ai nostri temi, quelli a noi più vicini. L'informazione geografica è ormai dominante e lo vediamo veramente nella nostra vita quotidiana, cioè noi ormai ci spostiamo grazie ad applicazioni GIS senza sapere che sono applicazioni GIS e questo è per fare un banalissimo esempio, però tutta l'amministrazione gestisce informazione territoriale e adesso è stata la regione Lombardia ovviamente che ha aperto questa strada in questo modo così, mi viene da dire, sontuoso, però un ente come Formez che dialoga direttamente con l'amministrazione di tutto il paese ha sicuramente piani d'azione per affrontare queste tematiche e sarà probabilmente sarà sempre più sviluppato nel futuro perché, e qui torniamo alla questione di formare persone che lavorano, è importantissimo che la formazione si avvicini al mondo del lavoro e una struttura intermedia nel senso che sta nel mezzo come Formez ha sicuramente grande voce in capitolo. Vuole aggiungere qualcosa? Penso che il collega abbia risposto in modo esemplare e raccoglie anche quello che è il mio pensiero. Sicuramente la piattaforma di Formez ha un raggio d'azione molto più ampio, quindi l'auspicio dettato dal collega lo raccolgo e lo giriamo a Formez. Anche perché c'è un'attività del centro studi non banale da poi da portare a galla. Esatto, cioè di dati siamo sommersi, stiamo dicendo da questa mattina tutti ce ne sono, bisogna metterle in ordine e quello che dicevamo al Politecnico di Milano bisogna essere in grado anche di leggerli perché poi a un certo punto quando sei sommerso vai in overflow, usando questo inglesismo, quindi vai, anneghi dei dati e non sai più bene quale rotta e qual è la bussola. Bisogna essere anche in grado di leggerli, scremarli, quindi ritorniamo sul tecnico, effettuare una sala normalizzazione che si faceva nell'analisi statistica è una cosa fondamentale, però adesso non voglio annoiarvi con pillole di statistica e riperdiamo la circolarità della tavola rotonda. Grazie, grazie. Allora torniamo appunto riprendendo la circolarità della tavola rotonda al dottor Cabras, quale vorrei chiedere. In molte realtà, penso ai piccoli comuni, l'attività urbanistica sconta una carenza di personale, se non proprio una totale assenza e questo porta anche dei problemi a livello di trasferimento dei dati anche tra enti e nei confronti della regione. È possibile pensare alla creazione di una struttura tecnica sovracomunale capace di sopperire a questa mancanza? Iniziamo a dire che nel caso specifico della regione Lombardia questa differenza è sentita anche a livello normativo, non così come dire centrale, però ad esempio la regione interviene con una normativa differenziata, più semplificata per i comuni sotto i 2000 abitanti, consapevole proprio che alcuni addempimenti che ad esempio deve affrontare il comune di Milano magari non è necessario che la affronti un comune sotto i 2000 abitanti, ma questo non è sufficiente, quindi non mi posso trincerare dietro una modifica normativa per dire no, ma i comuni piccoli troveranno il modo per come dire, per riorganizzarsi adesso anche in questa fase di rilancio. C'è la necessità di un coordinamento? Sicuramente sì. Noi stiamo lavorando come Anci Lombardia con la regione Lombardia, non solo con la direzione territorio, ma proprio con la regione a iniziare a ipotizzare operativamente questo tipo di assistenza. E li stiamo chiamando centri di competenza. Quindi l'idea di costruire dei centri di competenza, quali luoghi capaci di dare competenze ai comuni quando queste competenze non ci sono. Allora tre sono gli allarmi importanti. Uno, che non vadano ad impattare con chi ha già questa competenza nei territori, comunità montane, dove ci sono, non bisogna metterne altre, bisogna rafforzare quelle. E casomai nel rapporto con quelle capire, lo ridico prima, copiare ciò che hanno fatto loro per trasferirlo su altri. Il secondo tema invece è intervenire in modo massivo dove queste forme non ci sono state nel tempo. E penso soprattutto alla parte più della pianura della Lombardia, dove le criticità sono più evidenti proprio nelle forme aggregative. Allora lì sì, che l'ipotesi di centri di competenza come luoghi che contengono al loro interno competenze che servono ai comuni. Io penso ad esempio sull'urbanistica, la rigenerazione urbana, la rigenerazione urbana non è un intervento edilizio urbanistico, è un intervento intersettoriale, diceva prima bene la collega. Allora se non vogliamo perdere la necessità di rilanciare anche l'urbanistica, una sfida che non è semplicemente costruisco una scatola e poi cerco qualcuna a cui venderla, perché questa logica è finita, non si costruiscono più, le imprese hanno bisogno di capire prima se è già venduta la scatola, ma allora la forma della scatola non è più un problema di codice di norma, è proprio come dire l'invenzione di un progetto trasversale con il territorio. Allora da questo punto di vista servono delle competenze che non sono le competenze del geometra, dell'ingegnere, o non solo, ma sono competenze che hanno, lei prima ha usato una parola che mi ha fatto sobbalzare, ma è vero, forse di direttori generali capaci di avere una visione di sistema, ok? Allora è questa un po' la sfida, per cui la risposta è servono assolutamente sì, come anche in Ombardia stiamo lavorando con la regione verso la formazione di questi centri di competenza, intesi come le forme di organizzazione per fornire servizi, dove già ci sono affinché si affianchi e si rafforzano, dove non ci sono per andarli a formarli, ma per essere a disposizione dei comuni per fare che cosa? Per rispondere alle domande a cui ci stanno lanciando il PMRR e ovviamente con questi strumenti. Quindi concludo davvero con due, io ho sempre in riferimento due punti importanti. Uno, in questo processo così complicato e complesso, a partire dalla realtà in cui siamo veramente l'ottimo nemico del buono, non mettiamoci a inseguire risultati eccellenti settoriali, ma piuttosto raggiungiamo dei buoni risultati che ci permettono però di ottenere risultato. Il secondo è davvero, non facciamo tutti la stessa cosa, ma alcuni dati, alcune complessità che diciamo prima servono a certi livelli decisionali e quindi il dato può essere elaborato. Altre informazioni possono essere scalate di un gradino inferiore e possono essere definite dagli altri obiettivi. Vero è, il problema è capire come far sì che i dati aiutano la decisione e questa non è una banalità, ma è una cosa molto 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 complicata. Dottor Veronesi, il dottor Cabras prima diceva che le competenze nelle comunità montane già esistono, ma le comunità montane sono un'isola felice o si inseriscono in un sistema generale di competenze? Beh, qualche anno fa le comunità montane sembravano in estinzione, in realtà Regione Lombardia ha fatto una scelta precisa, cioè non ovunque è così, ma io penso che sia stata una scelta che derivava anche dall'esperienza del lavoro che aveva visto fare sul territorio da parte delle comunità montane. Io sono arrivato in comunità montane nel 2008 provenendo da un comune e avevo proprio quest'idea della potenzialità del lavorare sul comprensorio, quel che un tempo negli anni 60 si chiamavano così, no? Questa scala di programmazione ideale che intermedia rispetto alla provincia, noi a Brescia abbiamo una provincia enorme, quindi insomma, piuttosto che la scala locale che evidentemente ha tutti i suoi limiti. Io direi in maniera un pochino drastica che da un punto di vista tecnico le risposte ci sono già, cioè ci sono tutte le soluzioni, quindi è chiaro che... Quindi qual è l'apporto che poi... il miglioramento che si può portare? No, nel senso che esistono esperienze di aggregazioni virtuose da studiare, da valutare, il lavoro delicato è da fare con i territori, perché poi comunque siamo 1500 enti locali e sappiamo tutti bene come altri processi che tendevano a fare in modo che si verificassero fusioni o aggregazioni hanno avuto qualche difficoltà. Io penso che le autonomie hanno una loro ragione di essere e come penso anche che tutti gli amministratori, a prescindere dalla provenienza politica, di fronte ai risultati non possono che, diciamo, tra virgolette arrendersi, per cui sono scelte che vanno equilibrate. Quindi riuscire a trovare un equilibrio tra la tutela dell'autonomia politica ed amministrativa con l'efficienza delle strutture operative che non ha niente a vedere con il primo aspetto ma che serve per dare servizi e che deve essere assolutamente adeguata e quindi avanti con la digitalizzazione e tutti questi percorsi. Ma io insomma ho un po' di anni che lavoro, sono abbastanza fiducioso anche se il lavoro è soddisfatto e lanci sicuramente ancora prima di noi ma l'UNCEM, la nostra associazione diciamo delle comunità montane, ci parliamo in continuazione, abbiamo ben presente questi obiettivi però io ripeto ho diciamo avuto alcuni lampi di queste prospettive nei primi corsi che ho fatto da piccolo, giovane, istruttore tecnico sempre conforme se devo dire dove sono stati presentati i casi di un polo catastale per esempio che all'epoca era pionieristico e dove si faceva per equazione fiscale e ho intuito che c'era una grande potenzialità diciamo nella pubblica amministrazione e gli aspetti per riconnettermi a alcune domande che faceva agli amministratori prima ci sono ancora tutte e due le componenti che lei evocava no? C'è l'aspetto mitologico dello strano dipendente però va sempre più diventando un po' un'eccezione fortunatamente diciamo un po' il ricambio generazionale un po' tutti questi stimoli ma anche per carità io 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 penso vabbè qui siamo in un'eccellenza evidentemente però siamo in cammino per ottenere dei buoni risultati. Dottoressa abbiamo abbiamo nominata esperta del GIS di questa questa tavola rotonda quindi le chiedo come prima abbiamo parlato della comunicazione interna adesso facciamo la comunicazione esterna tutto quell'esercito di professionisti di consulenti che si affacciano nell'attività dell'urbanistica e che spesso fanno fatica a dialogare o a far dialogare enti locali e regione come il GIS migliora la comunicazione tra queste realtà? Ma assolutamente lo migliora in in maniera clamorosa perché il tecnico dalla sua postazione dal suo dal suo piccolo ufficio può tranquillamente accedere a tutte le informazioni che necessita quindi non ha più bisogno di andare a dal tecnico comunale a chiedere appuntamento cioè ripeto abbiamo visto quel tempo di pandemia dove ci è stato praticamente vietato di poter ricevere il pubblico e quindi quale meglio occasione per sviluppare questo atteggiamento per cui i tecnici e noi questa cosa l'abbiamo anche in questo caso messa già in campo i tecnici hanno a disposizione tutte le informazioni direttamente in forma digitale per cui nel momento in cui adesso stiamo partendo con un nuovo progetto di digitalizzazione di tutto l'archivio informatico di tutto l'archivio cartaceo in informatico delle vecchie pratiche edilizie questo permetterà al tecnico attraverso una di una log quindi potendo entrare col proprio speed di accedere a tutto l'archivio informatico dell'ente cioè se capiamo questa questa importanza si perde tantissimo tempo da parte degli uffici da parte dei professionisti che magari devono fare anche dei chilometri per raggiungere quel comune piuttosto che un altro a questo punto dal mio studio io posso accedere a tutte le informazioni che quel comune ha messo in rete allora capite che se tutto questo lo fa un piccolo comunello di 6.000 abitanti della provincia di Bergamo che è veramente lungimirante in questo caso se questo lavoro fosse fatto veramente da tutti i comuni della regione Lombardia non ci sarebbe più necessità di dover girare come le trottole quindi anche per l'aspetto ambientale il PM10 e tutte quelle tutte quelle cose che sono importanti non avrebbero più senso perché dati sono a disposizione di tutti H24 quindi a questo punto non ho bisogno di andare negli uffici dalle 9 alle 12 però poi quello di sopra è aperto dalle 13 alle 14 ma a quel punto io posso accedere a tutte le informazioni quando e come voglio i nostri tecnici ormai hanno capito anche noi appunto non riceviamo più pratiche cartacee hanno ora capito l'importanza di avere queste informazioni a portata di mano ovviamente all'inizio erano lì un po' attitubanti ma oggi si rendono conto di quanto intanto risparmiano nel non stampare più carta e poi quando hanno l'informazione con una velocità così estrema facilità d'accesso cioè è il tempo i costi legati al tempo al movimento ecco sono stati azzerati completamente quindi fondamentale. Bene io vi ringrazio ringrazio stiamo avviando verso la conclusione di questo di questo nostro incontro ringrazio tutti i partecipanti sia i partecipanti di persona sia coloro che ci hanno ci hanno seguito attraverso attraverso internet e come vi dicevo all'inizio siamo ospiti della regione lombardia e lascerei proprio alla regione lombardia nella persona del dottor Consi della direzione nazionale direzione generale scusate territorio e protezione civile di fare un ultimo intervento di saluto e che un po' in qualche in qualche maniera riesca a riassumere i temi che che abbiamo che abbiamo affrontato anche anche adesso in questo momento stiamo provvedendo alla preparazione delle postazioni e ecco il dottor dottor Consi allora prego ben trovato eccoci di nuovo eccoci di nuovo allora che cosa possiamo dire a conclusione di questa giornata sì allora prima dei dovuti ringraziamenti e sinceri ringraziamenti perché effettivamente è venuto come dire un momento non solo di incontro ma anche di confronto e di condivisione e questo è importante perché dà valore al lavoro che stiamo facendo se no diciamo che ci raccontiamo le cose e alla fine diventa un po' autoreferenziale cosa che assolutamente da evitare e volevo ecco riprendere solo un paio di come dire di sollecitazioni che sono arrivate mi riferisco ad esempio al quello che diceva il dottor Veronesi della comunità montana riguardo all'incrocio con i dati del catasto con i dati che arrivano per la parte tributaria allora questo è un aspetto che sicuramente è importantissimo perché tutto quello che è incrocio di banche dati non vuol dire soltanto recuperare il valore ma vuol dire generare anche nuovi dati nuove informazioni perché dall'incrocio dei dati si hanno tutta una serie di come dire di conoscenze ulteriori che aumentano il valore stesso dell'informazione e crea ulteriore informazione il dato catastale è fondamentale perché se no non rischio non non riusciamo diciamo a recuperare ad esempio quello che diceva l'aggiornamento che arriva dai professionisti da tutto quello che arriva dal mondo del della professione che è a supporto diciamo dei privati che fanno un po' da cerniera fra privato fra fra chi ha bisogno di fare delle modifiche delle interventi di ristrutturazione quant'altro e il lente che poi riceve questa questa documentazione e a questo punto la fa proprio ma deve circolare allora proprio per agganciare questo 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 dato in maniera più come dire tempestiva e possibilmente in tempo reale abbiamo stretto un accordo con l'agenzia delle entrate ex agenzia del territorio è un accordo molto importante perché vorrebbe poi permettere quella aggiornamento del database topografico con queste informazioni a partire dal dato che arriva dal territorio e che chiaramente il catastro intercetta il catastro è tutta la parte quindi agenzia delle entrate ex agenzia del territorio intercetta direttamente allora avere questa informazione che arriva a noi tramite questo accordo vorrebbe dire aumentare ulteriormente la qualità e le potenzialità del database topografico che abbiamo detto essere la base cartografica di riferimento per tutta la regione regione non come ente ma proprio il territorio questo è una sollecitazione che ci è arrivato da più parti e che si aggiunge alla seconda linea quella di poter continuare a mantenere vivo e aggiornato il database topografico non solo come informazione dati di cui parliamo ma anche per la parte tecnologica e quindi di formati noi abbiamo la necessità di evolvere non è un contenitore che rimane fermo dal punto di vista del non solo del contenuto ma anche della tecnologia le scatole le banche dati non possono necessariamente essere come dire le stesse nel tempo cambiano i formati cambiano gli standard e noi dobbiamo evolvere allora abbiamo già un appalto in progettazione in in esecuzione a breve in esecuzione per poter aggiornare il database topografico secondo i più recenti standard tecnologici in modo da fare anche lì un salto avanti dal punto di vista tecnologico ma in questa rivisitazione del database topografico che aggiornerà tutta una serie di dati anche di base quindi volo a gea ora adesso non la faccio lunga ma è diciamo un livello informativo molto importante che ci arriva dal dal livello statale livello nazionale questo questo dato cartografico incrociato col catasto e quindi con la parte tributaria ha diciamo delle particolarità per cui può essere assunto e quindi acquisito e questo è un passaggio altrettanto fondamentale come il dato che arriva dai comuni come i dati che arrivano ad esempio dicevamo prima diceva la dottoressa gagliardo del comune di pedrengo questo dato che arriva dal dal a noi come comune può essere circolato ma questo è già un qualcosa che abbiamo in interoperabilità chiesto tramite diciamo i nostri sistemi i nostri sviluppatori e abbiamo questo collegamento per recuperare anche quelle pratiche che sono dell'edilizia che sono della sismica tutte queste informazioni non devono rimanere diciamo segregate nei vari livelli istituzionali devono essere appunto condivise e allora anche questo questo abbiamo una linea di sviluppo e di azione per poter andare a recuperare questa informazione che è altrettanto viva e altrettanto importante adesso quindi non volevo ulteriormente come dire prendere tempo volevo fare un come dire solo un lancio promozionale ma non è promozionale nel senso di regione noi abbiamo sviluppato abbiamo soltanto accennato questo ebook è un prodotto che io vedo è un prodotto diciamo di tipo ovviamente multimediale quindi quello che vedete non fatelo come ho fatto io di stamparlo e solo per far vedere che esiste è un prodotto multimediale che è stato sviluppato da da formez insieme a regione lombardia e che ha questo obiettivo plurimo in sostanza sono una cinquantina di testi e video interviste che riprende un po' tutto il percorso che abbiamo fatto con questo progetto del database topografico a partire dalla sua ideazione e quindi a livello di contesto mette come dire in un quadro diciamo nel quadro del contesto tutto quello che è stato e diciamo da dove siamo partiti da dove siamo partiti anche a livello normativo di contesto normativo regionale nazionale direttiva inspire mettiamo dentro tutto abbiamo rendi contato le attività svolte negli ultimi due anni prima del database topografico nel senso del completamento lo diceva bene il dottor laffi 262 comuni mancavano l'appello l'abbiamo coperti tutti abbiamo fatto questa azione formativa conforme se che ha dato un esito importante e l'abbiamo voluto rendi contare con le indagini di gradimento e quant'altro ma per concludere questo piccolo prodotto che però insomma ha una certa consistenza dal punto di vista dei contenuti da anche delle prospettive quindi non dice soltanto quello che è stato fatto e ci vogliamo come dire un po gratificare per quello che è il percorso ma anche porre come dire un obiettivo in avanti e quindi dire la prospettiva su cui come dire andiamo a livello di regione insieme al territorio e con questo chiudo il mio come dire contributo arrivo ai ringraziamenti che voglio chiaramente estendere a nome di regione a tutti i partecipanti che sono stati oltre 200 a questo quasi 300 a questo webinar è stato importante avere anche una partecipazione del attiva da parte dei relatori quindi ringrazio tutti i sindaci comunità montana anci che ci ha supportato e continua a farlo su varie linee vorrei ringraziare anche il dottor mulè perché a volte ci dimentichiamo anche che il moderatore deve essere come dire quello che stimola non soltanto passa al microfono ma da come dire come dire gli stimoli giusti alla platea quindi alimenta un po la discussione e come dire e fa emergere no i contenuti di valore e questo assolutamente grazie a tutti voi io credo che a questo punto rimane soltanto da dire che noi rimaniamo a disposizione come struttura sit quindi i riferimenti li avete tutti ci sono come dire le occasioni per vederci ancora in altri momenti non solo di formazione ma anche nel quotidiano quindi diciamo rimaniamo come riferimento per tutto il territorio per continuare quest'opera diciamo di digitalizzazione diffusa bene grazie a lei grazie a tutti voi per essere stati presenti e per averci seguito fino adesso vi auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti